tanto tempo fa una ragazzina e la sua mamma andarono a raccogliere bacchi per il padre che lavorava tuttavia la foresta le accolse con un silenzio freddo e buio e c'è spugli spoglie determina dentro già la piccola per la madre e sparì inghiottita dai stai attento già preoccupate della madre svanivano mentre la figlia avanzava tra rami e arrampicanti fino al cuore della foresta avvertendo sguardi misteriosi ricordò i mostri spaventosi delle favole e la sua gola diventò secca apparvi allora il gran pipistro la salutò con calore mordendosi un'ala vieni bambina placa la tua sete le disse lei beve il suo sangue denso e scuro e sorrise con gioia mentre attraversava un cimitero minacciosi nuvole coprirono il cielo e l'aria si raggiungono quasi lacrimoni nei vestiti leggeri apparvi allora lo scuro tessitore che schioccando le dita confezionò un bella magari sbagliato di amica riscaldati e queste alle si vestì e sorrise con gioia navigò attraverso acque scure e nefaste su una barca che sperava la portasse a casa ma la fame era implacabile e il suo animo avvilito apparvi allora il pesce reale che le offrì una delle sue tante pinne vieni bambina riempiti lo stomaco lei mangiò e ancora una volta sorrise con gioia continuando a camminare giunse nello scuro cuore della foresta apparvi allora il destriero d'acciaio con uno splendido rocchetto d'oro la creatura non disse nulla ma la bimba si avvicinò e afferrò ciò che pensava fosse un altro dono il cavallo si infuriò e convocò gli altri mostri tutto se il faccio si alzò tra le bestie terrorizzando a morte la fanciola mica il bambino a parte una strega bella bambino hai ricevuto dei doni ma hai voluto di più ringhio di più ora ci è dovuto in un lampo venne imprigionata in uno specchio ecco ora dorme perché una storia così inquietante ha soltanto sei mesi i libreri hanno detto che è tradizionale una favola del posto comunque una cosa non mi sembra che non capisce ancora grazie al cielo ci siamo trasferiti per proteggerla dal passato ricordi ma ricordo benissimo metti a letto tua figlia con prudenza le beggia lei le beggia ciao ivan eh sì 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 sembra paio ho fatto i primi cinque minuti di gioco raga allora vi faccio una cazzo di promessa la prima premessa che è tutto sparato al massimo con ray tracing al massimo vediamo come va vediamo come va se ci sono problemi cazzo smazzo corriamo ai ripari ok ma si può correre non ancora non ancora fa la brava l'ho detto a mamma quella favola fa troppa paura ci siamo quasi la casa è bella è attento ai attento stai attento non voglio sapere né chi sono sopra mob no scherzo ragazzi mi parlate che non mi spoilerate la storia che bella la bimba però è un pochino diabolico e medicina di mia lei è mia è sotto sotto stretto controllo ai tempi di incidenti ci facciamo un giro qua a vedere un attimino così gne gne no ma scherzo raga vabbè mica lo sapete come bisogna pulire prima che il rosi inizia a camminare lo sapete come sono raga l'importante che non mi dite storie malate cara si parla sulla fuga del gas i dulvey il 18 in questo mese avvenuto invece le morte sono state attribuite a un fuga di gas naturale presente nelle rocce stimentate in quell'aria jack back la sua famiglia sono rimasti coinvolte in incidente ok i tizi che c'erano nella casa Ethan Winter e sua moglie si trovassero nei praggi ma la loro attuale posizione è sconosciuta l'aria è stata isolata bla 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 se ne sono dimenticati tutti sì avevo il dubbio perché non lo vedo capito è strano giocarlo così ora sentivo però vabbè ci sta ci sta ci sta ehi mia facciamo sesso mietta no eh tutto a posto sì dorme come come un bambino che buon odore che cos'è oh tieni giù le mani lei cambiata di pronto una ricetta locale ciorba di legume ti sta integrando bene vero? ciao Alessio anche il vino è di qui ma se continui a fare il musone tutta la sera non credo che te lo darò non me la darai? devi smetterla di preoccuparti che ritrovarti in Louisiana la gravidanza Chris che ci manda qui l'addestramento militare è successo tutto in fretta beh almeno ora siamo insieme tu io Rosa vedrai che adesso andrà davvero? ti sembra facile dimenticare quello che è successo in Louisiana? è passato tanto tempo ormai non riesco a capire perché tu sia così qui che ne hai sparato? Mia sta giù piga non la ne... Mia ma lei non muore dai che ci hanno ammazzato mia così? Chris ma che cazzo? mi spiace Ethan no cosa? perché? figa adesso mi ammazzano anche la figlia forza cammina via libera Rosa che cazzo vuoi fare con mia figlia? consegna il sicuro portatelo via togli le mani di dosso Ethan no basta come al solito Ros fuori di qui no 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 va bene il primo si nel 7 si è ripresa benissimo a tutte le botte che ha preso mia dottoressa d'accordo lui si è abituato lui si anche lei abbiamo un appuntamento ascolta si positiva ok ne abbiamo già parlato lo so ormai non parliamo più d'altro io te lo ripeto ancora una volta non mi preoccupa e quindi cosa ti preoccupa senti rosa starà bene ne sono certo che cos'altro c'è penso a noi due penso a te e non capisco di che stai parlando c'è qualcosa che non mi hai detto coraggio parlami devo rispondere il lavoro per chi avrà chi avrà chi avrà chi avrà chi avrà intendere in tenda my little angel mio piccolo angelo che dove ci che sono diventati tutte le possibili no fa paura fa paura vogliamo un gioco più sereno cristo di cosa stai parlando dov'è chris redfield e rose eh pensaci jonathan c'è che c'è anche i figli e una moglie sa mai che vi ripieni l'avventura ok dai ci siamo ragazzi ci siamo eh la grafica ci sta ma si può correre sto cazzo di gioco no così ci si abbassa io mi metto comodo nel frattempo grazie al mio pc ragazzi tutti i soldi che ci spendo sì la grafica è molto bella poi l'ho sparata altina credo che sia quasi tutto al massimo oh no il sangue il sangue possiamo vederlo il sangue si dà la micchia il joypad è molto 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 sensibile che cazzo sono corvacce la nebbia adesso mi piglia poco il pc raga figa lo sento che sta macinando di brutto non vedi un miglia sembrata vabbè al limite crasha al limite crasha lo restarto beh è tipo è tipo il primo cioè è tipo il set beh le prime volte apro tutto raga vabbè amica guarda che sono proprio l'ho messo proprio al limite della scheda per cui vediamo come va io io ci tengo anche voi lo vediate bene il gioco il cazzo sangue però non ho mai capito che ci sono gli scantinati nel resident evil così eh la span ma è fluido è fluido vuol dire che la scheda la scheda rende la cazzo la cazzo la cazzo la cazzo la cazzo sento l'aria calda proprio che esce dal pc ah mi posso parare oh che figata ma che mani da vecchio che c'ha Ethan ah si non lo so il 4 credo di non averci mai giocato no devo stare attento raga perché proprio bolle 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 cosa è successo cosa è successo non lo so qualcuno è entrato ha fatto un buco nella porta ma bro che cazzo di domande sono ma dove diavolo mi trovo ehi che è trasilvania la terra di Alvin raga patria natia di Alvin no no fin qua se cioè diciamo se crasha si se no no se no la teniamo alta raga ok il cavallo liquefatto non c'è nessuno terratura da scassinare mappa c'è perfetto la mappa c'è quindi si vedrò anche le zone ok puzzo che va giù nell'infinito la stalla col sangue oh tenete conto che sono in blind run e non ho voglia di correre che ci fa questo qui se ne so se non lo sei tu ma non si apre il cesso peccato volevo vedere il cesso di Resident Evil com'erano mica i caproni che cazzo che cosa hanno fatto cos'è che c'era scritto cimitero vicino al luogo della cerimonia il proprietario è sparito così è entrata una roba nell'occhio scusate oh una cassa da spaccare poltello soluzione medica inventario ah vabbè questo qua sarà un sarà il solito tran tran che ti dicono cosa fare cosa non fare oggetti tesori e risorse ok saranno scappati via all'improvviso non mi è dominata l'inzio no no calmo calmo che sei chi ti manda nessuno c'è stato un incidente sulla strada e che succede oh no arrivano ma chi che cos'era quello hai un'arma cosa dimmi che hai un'arma no perché dovrei vecchio minchia dimmi cosa c'è da fuori vuoi ascoltarmi ehi ma cosa beh sangue ho fatto bene per una volta dai un cadavere quale magia sono altri ok ci siamo ci stiamo giocando Cristo santo che cos'è successo a questo posto cazzo 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 Oh, è l'ho qui Oh, è l'ho qui E' l'ho qui dal cazzo Com'è la guardia qua? Ah, così Oh, figlio della merda Il cazzo che pensi di avere che fare Tronzoide Figa, però è un po' troppo E' un po' troppo sensibile E' un po' troppo sensibile il joypad Non riesco a mirare bene Ma che cazzo? Vabbè La prossima volta gli taglio a fette Va bene, che cazzo è successo qua? Mi ha mangiato una mano Ma non è stato lui mangiare una mano Ce n'è un altro Cogli, pianta verde Non ho bisogno di materiale Crea Mi manca il fluidochimico Un po' come l'altro, dai Più o meno ci siamo come Fluidochimico Quindi vado qua E creo Qua mi manca scarti alluciniti Polvere da spano Non ce l'ho Posso farm Già fatto, sorella Già fatto E' un coltello Ok, quindi adesso E' un oggetto chiave Sono diversificati Non sono sullo stesso Lo stesso piano Okidoki Qua c'è Ok Sta cosa del parare Un po' mi Mi manda in confusione Bella Carly Sempre la sinistra Io però Ho mica la pistola Non c'ho munizione Vabbè me la tengo Ma non c'ho munizione Comunque il tipo era forte Cioè non era il classico Vabbè era stronzo Ah posso sbarrare Ah che figata Ma sieri Mi sono spaventato Ma non c'ho Ok, mi fa? Ma che c'è? Oh, e tu? Che va bene, ma non li ammazzi questi Non li ammazzi Oh, e tu? Oh, e tu? Oh, e tu? E tu? Oh, e tu? Sono... Ah, dovevo ammazzarne solo uno Eh, vabbè, ma chi chi ha Che storia ammazzare questi qua Che storia ammazzarne Vedete mi hanno fatto l'interno di loro se non mi attaccano Di qua torniamo indietro Ma che cazzo c'è? Ragno cristallizzato Allora, lo devo prendere E che cazzo faccio per i tesori? Per esempio Una creatura dei denti a guzzi Di valore Va bene Vabbè Ce n'era un altro però di cranio di qua allora No? Ahah Ahah Miglio della merda Dove sei? Cazzo Sopravvivi all'attacco Ah beh Ah 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 Aspetta strunzone Qua c'era Eh vedi l'avevo visto Che cazzo è? Scarte arrugginate Ah 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 Finito i colpi Che vita di merda Non finisco mai Non finisco mai Non finisco mai Ma io posso creare qualcosa? No Sbogliato Posso crearmi un cazzo Bene E dove cazzo corro? Non 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 Vabbè, non è muoio di qua. E passa, amicchia! Niench'io. Non so neanche dove cazzo devo scappare. Ma dai, ma chi è? Dai, bro, ti prego, dove di cazzo devo andare? Guarda queste. Ma dai, ma dai, ma vaffanculo. Fai in stereo. Fai in stereo. Dai, chiudo, capigli? Cioè, come faccio a ammazzare tutta sta gente? Ma dai, che vita di merda. Guarda questo, non c'ho un pompa, non c'ho niente. Non c'è nessuno che mi può aiutare qua. Guarda. figa. Figa, è enorme. È enorme, ah. Ma cazzo vado? Ah, ma dovu... Ah, ma dovu... Ah, ma dovu... Ah, ma dovu... Ma hanno mollato qua così Senza le dita lui Mezza mano Devo rimpicciolire un po' E questo che cazzo ha? Aspetta, aspetta Figa, la strega bacheca Attenti al lupo Cioè, apparentemente era una stronzata Nella vita e nella morte Rendiamo gloria Ehi Non puoi stare qui, è pericoloso Ma che diavolo Ehi, mi hai sentito? Sei tu Il padre della bambina Bambina? Aspetta, parli di Rose Lei è qui Rose, Rose, si È in grave pericolo Da quando madre Miranda L'ha portata al villaggio È calata all'oscurità Di che stai parlando? Di quei mostri? La campana del castello Annuncia il pericolo Arrivano No Ferma Dov'è Rose? Chi è madre Miranda? La campana ci ha avvertito Stanno tornando di nuovo Rose è qui Cerca Rose Che cazzo è una parola Cercare Rose In questo macello Allora qua c'è una mappa Ok, quindi C'è un sacco di roba Sicuramente queste tre case Ce le facciamo Queste rosse Questa che cazzo è un lucchetto Vabbè, un po' di roba Ciao Ele Quindi vediamo un attimino Di cosare qualcosa Credo chimico Questo è un lucchetto Ok, c'è roba da scassinare in giro Quindi ci sarà anche il Grimaldero Credo Di qua lei ha chiuso, no? Ok, il Grimaldero Per andare di qua Che cazzo devo fare? Vi devo fare tutto il giro Tutto il giro della città Credo Vabbè, va Giriamo un pochettino Vediamo dove cazzo andiamo a finire Serve qualcosa No Carti Offriamo queste capre a tutelare Per proteggere il villaggio e i suoi abitanti Che li distrugge Se indietro della colonna di madre Miranda Che cazzo me ne frega Di madre Miranda a me Voglio la Chiment Ah, dentro c'è qualcosa Bisogna andarci Immagino porti al castello Non c'è un cazzo di roba tonda E a me che cazzo me ne frega a me Questa è una chiesa Questa è una chiesa Chiavera questa Rilievo della donna Però prima di far qualsiasi cosa Io farei anche una bella roba Per curarsi com'è che era Ok 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 E' un bel salvataggio Va bene Si può sentire il salvataggio Allora Se la presenza si fa il salvataggio C'è anche i pezzi di basso E' una chiesa E' una chiesa Doviamo trovare la casa di Luizza No, qua ci vorrà una cazzo di chiave Il basso rilievo è da mettere qua Sicuramente la La casa di Luizza Dove cazzo sta la casa di Luizza Su di qua sarà Segheria Fortezza E cimitero Ok Ah micchia Guarda come cazzo è così Ok ci manca la casa di Luizza Dobbiamo andare verso di qua Che roba c'è Se c'è qualcosa Niente Vieni a trovare la casetta Bella Pietro Grazie del cento La casa di Luizza Cazzo è la casa di Luizza Sarà quella Riproviamo là Magari non l'ho guardato bene Sto bisogna tornare indietro No niente Qua non si poteva entrare Aspetta una cagata Qua Non si apre Nine Chiusa dall'altro là Ehi Polvere da sparo Questa è buona Che mi aiuta a fare i proiettili Vabbè 3D9 Ancora va Va abbastanza bene Dicevo questa qua Non sarà questa Casa di Luizza Con i Santi E le Madonne Io quindi Ci ho fatto caso adesso Dell'aglio sopra Potenti lican Legendari Pimentari Delle passate Serviti Delle nostre carni Lacerati I nostri corpi No niente Dammo se va Magari è qua fuori Ma non credo Che sia in mezzo La neve Se questa è sempre La casa della tipa Ma Ah per forza qua Per forza qua Con i parenti Perché 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 i tuoi parenti Massimo È l'unica casa Che c'è Sarà qua Ah no Guarda un attimo Non è che questa qua La stronza qua Con la capra Ma se gli Aspetta Facciamo In teoria No Serve la manovella Qua Dai Per me Potrebbe essere Questa La casa La casa Della tipa Ah vedi Scusa Ma se io entro di qua Dal cimitero Portone esterno Ci starà un'uscita Di qua Magari non l'ho vista Come vede Ma qua ci siamo entrati Ma Cazzo Ho finito Ho finito Le munizioni Non me ne sparo Ma per inventare Per creare munizioni Ok Ok Dice Non serve Non voglio cercare I tefferugli Adesso Devo capire Devo capire Un po' Il gioco Prima Questa non era una porta All'altra parte Oh niente Non mi vogliono Far entrare Da sta parte Vabbè All'altra parte Pazzo di merda Vabbè Se le colpisci in testa Gli fai più male Ma dai Questa Figa Con Con Chiudi la porta Ti prego Senza Cosa ci fai qui Stai indietro Ti prego Non farci del male Senza tre dita Sorella Cioè L'icanto mi muore Sono felice Di vedere persone Normali Ci sono altri Sopravvissuti No Sono tutti a casa Di Luisa Ma lei non risponde Il cancello È chiuso Stai zitta Non è uno Di noi Qui siamo troppo esposti Lui ce la fa A camminare No Uno dei mostri L'ha ferito Ha perso molto sangue Dobbiamo entrare In casa di Luisa Piano Troveremo un modo Restate qui In silenzio Cerco un modo Per aprire il cancello Il mio figlio Spirito santo Va bene Rifugiate Cazzo di Luisa Ma non c'è niente Che mi può tornare utile Sorella Non ci avete proprio Un cazzo di niente Qua dentro L'aglio Contro di canto Perché non serve Pistola C'è Luisa Dove cazzo Sta la casa Di Luisa Punto di salvataggio Pozzo Portone star A stare da queste Cazzo sta la casa Di Luisa Mi sa che non ci rimane Altro che girare Ma io no gioia Ah guarda dov'è Il coso Ok ma per salire Qua dentro Qua non posso rompere Le finestre Immagino Prima devo far entrare Quei due Capito L'unico modo Che conosco Io Sfondare una porta Si 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 Lui è tutto Lui è tutto mangiato Tutto mangiato Proprio Andiamo Via libera Presto Presto Te la sei presa Comoda Non c'è di che Quelle blu Quelle che hai esplorato Quelle rosse Quelle dove c'è qualcosa Ancora da fare E quelle grigie Credo che non ci sia niente Niente Però Alvi sicuramente Ne sa di più Qui saremo al sicuro Vero Sempre meglio che là fuori Questo è certo Ehi Hai idea di che cosa Stia succedendo Tutto questo non ha senso Madre Miranda Ci ha sempre protetto Ma adesso Non risponde nessuno Vieni Padre Aiutami Dobbiamo entrare subito Hai capito Dove cazzo Mi faccio entrare Aprite sta minchia di porta Salve C'è nessuno C'è 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 Luisa Apri Sono io Elena Basta Gridare Attirerai Quei mostri Julian stai calmo Lui chi è È un amico Stai indietro Padre Santo cielo Julian facci entrare Julian Il sangue L'antirerà È pericoloso Ma mio padre morirà Qua fuori Non è un problema mio Che cosa succede? Questa gente Vuole far entrare Un moribondo in casa Quelli che chiami Questa gente Sono nostri amici Avanti Entrate qui Prego Di qua Non sei di questo villaggio? Eh No Sono Ethan Julian Renditi utile E controlla i dintorni Ho detto vai 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 Non è di chiudile Con la doppietta Da pussi Coglione Se Elena Si fida Mi fido anch'io Entra pure Ethan I colori Sono un po' Un po' Smorti Però Non lo so Nella luce Si vedono bene Ma fuori Sono un po' Smorti Aspetto qui Allora Ce l'ha grido di nuovo Hanno attaccato il bestiame Di questo passo Non credo che soveremo l'inverno Ernest è sparito Non riusciamo a trovarlo Madre Miranda Ci ha abbandonati? Tutto di domanda Ma che cazzo c'è? Guardiamo un po' qua Aspetta che devo guardare le foto Dai che c'è una keyment Lo so che c'è una keyment Non serve un cazzo Entra pure Ti stanno aspettando Che cazzo succede? Uno straniero Vuoi farci ammazzare tutte? Calmati Anton Ha aiutato Leonardo ed Elena Non avevamo bisogno Del suo aiuto Prego Ethan Accomodati Tutti forti sono Capito? Siete soltanto voi In tutto il villaggio Soltanto noi Soltanto noi Non c'è nessun altro Un inutile Invalido Stupida Troia Lagnosa E tu? Fai entrare un uomo ferito E uno straniero Come se niente fosse E pensi che siamo al sicuro Nessuno è al sicuro Quei poveri stronzi lì fuori Sono stati squartati E domani Domani saremo tutti morti Come il suo cazzo di marito E tappati la bocca Roxana Ora basta Questa casa Ha protetto la mia famiglia Per molte generazioni E ubriachi O meno Qui siete i benvenuti E siete tutti al sicuro Come vuoi Qualcuno può dirmi Per favore Che diavolo sta succedendo? Non lo sappiamo È sempre stato un villaggio Tranquillo Devoto Ma All'improvviso I mostri Ci hanno attaccato E poi Non si sono più fermati Aspetta Luisa Dov'è tuo marito? Non sarà No No Lui è fuori Da qualche parte A cercare aiuto Sì Sì Ecco Ecco tutto È in cerca di soccorsi Preghiamo Per lui Per tutti noi Buona idea Venite Preghiamo Sì Preghiamo Lo chiamavano in polvo Ascoltateci Le nostre voci Ci sono uniti In preghiera Noi vi invochiamo Persi in bene E eterni Perché ci avviate E alle mani del fatto Mentre la luna di mezzanotte Si innalza Su ali nere Comuniamo Con questo sacrificio Nell'attesa di vedere La luce Nella vita E nella morte Preghiamo gloria Madre Miranda Bene Il tè sarà pronto Anche il tè Ok La preghiera L'ho già sentita Da una donna anziana Al cimitero La vecchia strega Quella stranza È matta Proprio come un cavallo Ma la sua devozione Non è insensata E spero che serva Proteggerla E che protegga Anche noi Che stai facendo Leonardo Che succede Ti senti bene Padre Elena no Sta indietro Lasciami andare Dobbiamo scappare Ammazza tuo padre Lascialo andare Vabbè io gli ho sparato E non gli ho fatto un calzo Vabbè Elena Adesso basta Vabbè ma lei c'aveva la doppia Oh mio Dio Mi dispiace padre Ehi Ehi Ormai non era più tuo padre Hai fatto la cosa giusta Elena Elena no Non puoi fare più nulla Papà Questo posto sta cadendo a pezzi No No La doppietta Era già perduto Non avresti potuto salvarlo Lasciami stare No Ne usciremo vivi Insieme Cosa ci sta Senti Sai che dovuta c'è Sta lì a piangere Vaffanculo Devo uscire di qui Fuggi dalla casa So c'è la macchina Provo C'è qualcosa In giro da prendere Che cazzo me lo metti a fare Un cassetto Se non c'è niente Dentro Oh Le chiavi del furgone Cacciavite Va bene Per forzare Questo che cazzo è Stai abitudinando C'è un cacciavite Ne portachiavi Dopo che l'ho trovato Certo che sei proprio Un cazzo Di figlio di nessuno Comunizione del fucile Tanta roba 18 Adesso vado Adesso vado Calma Non abbiamo fretta Noi altri Ma che cazzo c'è Niente 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 Cazzo Le fiamme Si propagano In fretta Sfondare il portone Con questa possiamo scappare Dai però lei è dolce Adesso butta giù Muro Cade la casa E moriamo Ah ok mi ha sbagliato Non abbiamo più tempo Non abbiamo più tempo Possiamo solo salire Ah ma era fatta apposta Aggrappati Presto Era fatta apposta A farmi arrivare lì Dai Minha Morghi Tranquilla E' morto Insieme Non preoccuparti Grazie Ethan Oh grazie Ethan Amore mio Sei gentile Spero che la tua famiglia Sta bene Lo spero Abbiamo un demone Oh com'è qua Non funziona Sarebbe bello Andiamo Freggerà Ecco C'è una via d'uscita Grazie a Dio Ma che faremo Il villaggio è infestato dai mostri Non possiamo combatterli Sono trappi Ehi Non dire così Troveremo un rifugio sicuro per te Mentre cerco mia figlia Credo che si trovi in quel vecchio castello No Laggiù non troverei altro che sangue e morte E io non voglio restare sola Io mi chiamo sangue e morte Guarda è arrivato Elena no Non è lui Non lo è più Ha detto il mio nome Padre Vai 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 Pericoloso Resta lì Coraggio Dammi la mano Ethan vai Salva tua figlia Che ritardata Ma puoi essere ritardata a sti livelli Perché muoiono sempre tutti Io mi farei due conti Io mi farei due conti Io mi farei due conti Non riesco a capire Eh neanche io me ne capacito Tante volte Niente non c'è nulla qua da prendere Andiamoci fuori dal cazzo Ma qua Perché cazzo sta succedendo ancora A merda Scusa se io entro di qua No Vado al cadavere Siamo cacciabite Svitiamo tutto Ah però c'è ancora Che succede Basta Madre Miranda Ehi Ma chi Chi era Con chi cazzo stai parlando Ma con te stesso parli Ma smettila Vediamo se c'è qualcosa Qua non c'era niente No Serve qualcosa A me manca Quella roba lì Dove è morto il coglione Magari c'era Qualche arma Dove cazzo è morto Casa di Luisa Non ho fatto tutto In casa di Luisa Casa di Luisa Grazie Scusa la casa di Luisa Non l'avevamo già guardata Tutta quanta Ma non posso più entrare Credo Dentro Tutta Tutta a puigo Tutta a puigo Non si può più entrare In casa di Luisa Portano Come siamo Ah Vedete posso comunque Scavalcare Ste roba qua Nieee A saperlo prima Beh comunque Non si può fare Un bel cazzo di niente Da questa parte Credo Quindi Gli stecati Oh Gli scarte Gli stecati bassi Ne posso Ne posso saltare Questa è già una novità Per me In questi giochi Non so Mi sento più sicuro A girare col fucile Poi magari uso la pistola C'è la vecchia baldracca Io vitterei anche Di andare lì Guardo che eravamo Entrati prima Raghi La pistola La mina La mina Ma si è Qua è l'altra mina Non è una cosa strana La mina ragazzi Sui resident No mi sa che Il percorso obbligato Di là Provo a salire qua Ma Mi sa che Il cazzo di percorso Obbligato Vuoi vedere Di qua non posso andare No Ok Quindi posso andare Solo dentro qua E qua dentro C'è qualcos'altro Da vedere Scusa Cazzo c'è da prendere qua dentro Cazzo c'è da prendere qua dentro Poi faccio salire Non si sa Non si sa Ok Guarda che sono qua Oh guarda che sono qua Niente Mai una gioia Ok qui dentro C'è qualcosa da vedere C'è il salvataggio C'era qualcos'altro Ma intanto salviamo Scusa io ho fatto tutto qua Ok questa Questa è una vista Cazzo c'è da fare Vabbè andiamo Se mi ricordo Dove cazzo era l'altra Ma non è che era Magari dietro Forse perché c'è C'è il pozzo D'accordo Sorella D'accordo Ok noi dobbiamo andare là Cosa c'è qua Questa roba Ah c'era questa Anche da aprire Ma Non ho Non ho niente da aprire Mi sa che poi ci dovremmo ritornare Ecco Così a span Vabbè andiamo avanti Nient'altro che sangue e morte Cioè non che la casa dei tuoi suocidi Non ci fosse stato nessuno Perché c'è Vabbè D'accordo Cos'è va Mi sa che Forse è meglio Cominciare a farmi Anche un po' Di Cose mediche Ok Ok prima di andare Vediamo se riesco a farmi No mi manca la pianta La pianta verde Però mi posso fare I proiettili Però voglio farmi quelli del pompa Quindi sti cazzi Bene bene Pensavo non ci fossero superstiti Devi avere la pellacciatura Chi cazzo sei tu? Oh Un forestiero Sì è vero Alvin Anche me Vero notato anch'io La madre Miranda piacerai molto Ma Perché? Basta lagne Ci siamo quasi Mi piacciono tutta sera Che mi fa male l'occhio Nessuno di voi Ha bisogno di quest'uomo E le mie figlie Amano così tanto Intrattenersi con i forestieri Se lascerete il mortale Nelle mani del casato Il mio figlio Che bella mia nuova postazione E come no E poi nel castello Gli tagliate l'uccello Ho ascoltato le vostre ragioni Alcuni di voi Sono stati più convincenti Di altri Ma Ho preso la mia decisione Heisenberg Il destino di quest'uomo È nelle tue mani Madre Miranda Io non sono d'accordo Heisenberg Che è solo un ragazzino E la sua devozione È davvero No non ho nulla adesso Che E insomma di baglio Me lo sciaccio Giudico la cazzo di fogna E per una volta Impara a perdere Cercati la cena Da un'altra parte Ti conviene stare zitto Ragazzino Lascia parlare gli adulti Un ragazzino Sei tu che fai sempre I capricci con Miranda Non avresti responsabilità Neanche se te l'attacchassero Cresci ancora E la tua testa Forse conterrà il tuo ego La mia opinione non conta Silenzio La mia decisione è definitiva Non voglio discursi Imparate a stare al vostro posto Grazie Signore e orrori Grazie per l'attesa Inizia lo spettacolo Vediamo di che basta Siamo I tan winters Preparati No aspetta Inizia Nove Otto Sette Sei Cinque Quattro Dai coglione Tre Due Uno Si va in cena Cristo santo Bravo Scappa se vuoi salvarti Molto bene Eton Che Sei ancora vivo? Complimenti! Merda! Ma allora sei davvero forte come titolo? Vuoi dirlo forte, sorella? Oh, non pensavi che ti avrei fatto scappare, vero? Devo far divertire donna e loro! È arrivato il momento dello splendido e sanguinoso crown finale! Davo, sfrutta, sfrutta! Che c'è di meglio di un bel macinato di carne americana? Per un pelo! Per un pelo! Cazzo, sono vivo! Sono vivo! 300 lei? Che cazzo sono i soldi? Ci sono i soldi nel gioco, raga? Ah, ma secondo me ne perde altri di arti, eh! Vedrai che poi ci devo tornare indietro di qua! Cazzo! Cazzo! … Ah, ma c'è l'ho la roba! figurati se non c'era una pianta dolce remi metti una mano qui ti attendevo con ansia signor winters come sai il mio nome ormai tutti hanno sentito di te e delle tue gesta l'eroe in cerca della propria figlia devo ammettere che il castello d'esta non pochi sospetti già non è l'unico io sono solo un umile mercante qui devi perdonarmi puoi chiamarmi il duca parliamo d'affari armi e munizioni unguenti curativi tutto quello che desideri qui puoi trovarlo va bene benvenuto grazie allora vediamo cosa c'è potenzialmente ho delle novità in vendita ah quindi queste le posso vendere giusto io ne ho due ok perfetto e lui che cazzo c'ha da darmi il giusto prezzo 8k oh caro eh risorse esaurito mica munizioni 3.000 8.000 queste che cazzo sono spendendole del domani questo 9.000 mica è carissimo tutto caro ah i progetti impara a creare munizioni 3k aumenta il numero di slot disponibili 10.000 mica io spero di fargli un po' di soldi non guardare a me allora queste le vendiamo se non mi serve un cazzo le vendiamo poi ti direi anche che la mina vabbè me la tengo mi potrebbe servire però no poi parlo troppo la mia è un po' di cuore propone che è un articoli giusti e importante amico mio più di ogni altra cosa se tu al fine pandemia ok allora io in teoria sti cazzi dovrei aver imparato a farmi le munizioni torna al più presto sì sì torno al più presto allora fammi vedere c'ho questo 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 le risorse crea che cazzo mi serve per creare le munizioni poi allora sparo scarti mica il fluido chimico però vuoi mettere che non mi faccio non mi faccio le munizioni scherziamo non scherziamo del pompa poi non scherziamo castello dimitrescu che rosa sia qui così avremo finito il gioco subito a me che cazzo me ne frega le tre figlie bella cassandra e daniela vabbè bella la conosco cassandra era di un'altra storia 5 gennaio redini consegna un uomo e tre donne madre miranda incontro con la signora dimitrescu incontro da fare ok qua si va di qua e qua va di qua 500 lei cos'è? non succede nulla quindi dovremmo dare la corrente con qualcosa che troveremo dall'altra parte immagino è dispersiva? meglio guarda vediamo come sei banale gioco come sei banale i pirloni che siete ragazzi cioè io ve lo faccio vedere in italiano faccio di tutto per farvelo avere in italiano e voi stronzeggiate yes yes pensavo che era una pianta verde allora potremmo andare su notti Jonathan andiamo su andiamo su niente è chiusa è chiusa è chiusa e allora andiamo dall'altra parte restituisci la maschera agli angeli stai forse cercando Rose che cosa? stai forse madri e belli sono sti personaggi siete così premurose figli e ora vediamo un po bene bene itano winters e così sei scampato ai giochetti di quell'idiota vediamo che cos'hai di tanto speciale sì madre sì ma forse un po stagione è meglio sbrigarsi a divorare ma sono stata io a catturare calma calma ragazzi prima devo informare madre mirando vedrete che ce ne sarà abbastanza tiratelo su aspettate non ci fingono proprio ehi ehi ferme potresti pentirti di quello che bellissimo sto pezzo ragazzi questo pezzo è proprio fantastico bello bello questo pezzo mi è piaciuto di brutto vabbè coglione minchia ma sei sopravvissuto alla cazza degli orrori ma veramente vabbè qua vabbè vabbè dai strappa tanto questa era già tagliata maledette psicopatiche vabbè cazzati col fucile a pompa gli slabriamo dai dai ciucciatela questa che cazzo ci fanno a medicinare qua quando quelle sono vampiri vabbè adesso per dispetto gli scassiamo tutto vaffanculo adesso gli scassiamo figa tutto gli scassiamo a ste tre baldracche vaffanculo alzmica col poveri guarda perché non voglio sprecare munizioni calice rosso raccogli ma cosa cazzo fa il calice rosso non si sa figa tutto gli spacco a ste stronze niente non gli posso rompere altro guarda ah non si rompe figa pensavo che sia un pest figa le stupro col pompa ste bastarde questo non si può prendere no niente io voglio fare qualche altro danno niente qua non so anche perché c'era la leva prima non si può usare la leva ah la leva serviva per tirarmi su capito tronzissime per l'altro da scassinare eh mica i grimaldelli mi servono questa era facile ragazzi questa era facile però prima devo io devo perquisire il posto scassare quel cazzo di guanto cosa ci fa qua qua si è sbiottata ciao andiamo a vedere di qua ah non si può boccosare il vaso? dove cazzo è il vaso? dov'è il vaso? ah micchia quello guarda lei micchia che occhio ma non c'era niente gli ho scassato solo il vaso vabbè adesso non è che mi non vabbè se le trovo gliele spacco le cose ma giusto perché sono un cazzo di dispettoso io qua la madonna del Carmine anello con occhio rosso tutto mi scasso tutta casa bastarde l'audio chimico questo ci faccio le munizioni del pompa parmento di cristallo ok ho sbloccato la porta che dava ok perfetto dove hanno portato rose ah no tranquilla tranquilla non è solo spoiler spoiler non le togliero però per il resto si che cazzo è cazzo di famiglia anello con occhio rosso sicuramente qua l'anello con è l'unico niente mai una cazzo di gioia va a vedere ma scusa io posso posso vedere qualcosa crea oggetti esamina fammi vedere sto cazzo di roba magari c'è qualcosa più rosso ok più rosso lo proviamo a mettere qua nel singolo veder ma vaffanculo era l'ultimo mi mancavo io di là sono arrivato no giusto però prima di qua ci ritroviamo ancora ma questo gira come cazzo gli pare che ci fai qui sai dove c'è da guadagnare e dimmi hai trovato tua figlia no se rose si trovasse davvero qui è probabile che la signora del castello la tenga nelle sue stanze private tu non trovi no te pierde dimitrescu si proprio lei perché non dai un'occhiata magari hai fortuna e a tal proposito guarda il mio inventario eh ma tanto non cazzo ancora io guarderei più qua sarà qualche altra stronzata ragione va bene tanto salviamo vabbè tanto io sono venuto di qua devo andare per forza da questa parte me lo credo è l'unica strada che si è aperta nuova d'accordo è andato di qua io sono sbloccato una scorciatoia questo è dall'altro lato è il vino di sangue ma io ce l'avevo un o un calice credo aspetta un po non avevo un calice io tesori calice rosso cresce rosso ah questa è tutta roba di valore frammento di cristallo di valore quindi questa roba qua c'è al limite posso guardarla ma credo che sia solo da vendere maggiori sia solo da vendere questa belli dettagli però vabbè andiamo se va tutto al duca ma poi il prossimo giro glielo do tanto per ora non costavano un boato a roba a meno che questa roba qua non me la pagava 10k l'uno ma lì abbiamo una porta e un altro corridoio noi andiamo giù di qua ok occhio rosso sì comunque è bello mi piace mi piace mi piace eh che cazzo per forza con me ti toglierò la gola e mi controllo meglio vivo o morto tu che cosa preferisci morto non riesco più a trattenermi dove cazzo è beh da vicino comincia a mi scatta da vicino mi ha scattato un attimo niente non c'è niente sarai benissimo esposto in salone devo trovare modo per togliermi dal cazzo di qua tutti i famigli oggetti non c'è un cazzo qua per fare niente qua non si può dare non si può dare a spostare la tenda no oggi è il primo giorno del lavoro del castello sono rimasto su quando ho scoperto che di piedi sono tutte donne la signora del castello e sua figlia hanno promesso solamente di non mordere è stato molto strano ci sarà il modo per ammazzare la stronza comunque è la Tommy è comunque la stronza mi ha fatto male la stronzetta mi ha fatto male allora lei è andata via di qua non credo che si apra la porta non credo che si apra la porta bello però non capisco il senso qua sicuramente dovremmo dar fuoco a sta roba qui c'è un modo non capisco il senso veramente avevo cercato di capire C'era una torcia o qualcosa del genere Ah, lui accende la torcia Oh, cazzo da prendere? Irina, appetito robusto L'ho appetito robusto Lois, appetito robusto Ingristabile, attratto decisamente vigile Ma probabilmente troveremo qualcosa per ammazzare le due stronze Carte di metallo Cominciamo? Ma non morite mai voi Così è per capire... No, no, muoio, non muoio le stronze Ah, niente, comunque questi qua hanno solo soldi Ok, ok, vabbò Vabbè, penso che c'è un po' di colpe Bomba artigianale E la pistola non fa un benemato cazzo La pistola non fa niente La pistola non fa un cazzo Collana di ingrid Quindi trovi anche oggettini in giro Degni di nota E tanto li ho seccati a tutte le stronze Occhi dochi Allora, volevo vedere che cos'era che ho preso Qua, uno, uno Ma questi ce le treiamo sicuramente Questa va bene così Collana fatta con ossa di animali Protegge dal male Di valore Ma queste qua non hanno... Cioè, non sono catalogate come oggetti Sono da vendita Ok Le location sono belle grosse Le location Cerco di farle in fretta Se solo Cassandra ti avesse ucciso subito Quanto sei irritante Voglio del sangue Sangue caldo Rosso Brillante Ma vaffanculo Beviti il maestro Che cazzo vuoi da me? Lui ridà Sangue di un uomo vigoroso Beata innocenza Il sangue è molto più dolce Se lo bevi quando la preda Non c'era l'ora Sei il piatto forte della cina Dove te ne vai? Amuncolo I proiettili non mi fanno nulla Luce sì, cogliona Tu, stupido amuncolo Ti perdonerò mai Bastardo Sua madre Come osi essere tanto sfrontato? No Dove cazzo le vande? Non 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 no ho sbagliato taglierò la gola e la gola uscio cristallizzato ok niente mi sono impappocchiato un attimo devo dire la verità vabbè una delle figlie se n'è andata a fanculo guarda qualche macello mi hanno mandato un'altra in cantina ma sono riuscita un po di zubba tutti sanno cosa succede che mi hanno mandato in cantina non si fa più ritorno succano via tutto il tuo sangue la tua anima è condannata a pagare per sempre lungo il corrido del castello sono andata a cercare l'ho trovata la pelle osta e masticava le carcaste di ratti temo che presto arriverà il mio turno meno una meno una meno una che cazzo è questo dai cani possono vedere i cani pure con le palle in su figa vabbè che pita di merda manca la piantina del cazzo mi manca tiriamo al dell reagisci che cazzo è questa freno di bocca modifica che cazzo è il freno di bocca la pistola la devo montare anche perché fa cagare la pistola così oggi oggi è uscito ancora qua trovato il grimaldello oggi vabbè in teoria oggi però in pratica c'è gente che ce l'ha ce l'ha da un po' da uno due giorni che cazzo fa un angelo di legno? che cazzo fa un angelo di legno? da vendere dal tipo ok oh 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 ok sentite io direi possiamo prima andare dal tipo non era giù qua? se non erano del cazzo era? qua era? no stiamo vendoci un po' di roba benvenuto 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 sono sicuro che troverai qualcosa di nuovo si diciamo che in antiprima diciamo ottimo cercavo giusto qualcosa per passare il tempo oh 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 allora frammento di cristallo quantità 1 1 ragno del cazzo busto della vecchia della tipa calice angelo di legno e collana di ingrid min bomba artigianale mica 16k quindi io faccio che cazzo è lemi? ah no no mica non voglio vendere il legno sei amareggiato? io lo considero un prezzo onesto allora vediamo ho delle novità in vendita cos'hai di in vendita di bello? aumenta il numero di risultati nel tuo inventario 10k questo che cos'è? alzareto alzareto senti mi prendo l'inventario sia mai congratulazioni adesso non rischierai più di perderti qualcosa una soluzione curativa? no questa in teoria dovrei farci questa cos'è? parte modifica per il fucile aumenti molto la cadenza di tiro 8k e questa? no vabbè io diciamo sei ansioso di provare la cosa? ok va benissimo siamo a 2006 ok potenziamenti 8000 2006 per fare liberna se solo avessi abbastanza soldi ah 4k che è perfetto allora niente andiamo via alla prossima volta posso usare il sangue virgis qua? beh intanto io salverei allora io il sangue direi che possiamo anche metterlo dentro dentro una tazza vedere se riusciamo e il duca il duca credo che sia ogni presente in ogni parte del gioco questo veramente sai che questa non ci facciamo un cazzo c'è anche solo qua da così di bellezza sta roba allora noi siamo usciti di qua giusto? una batteria di vino ha decorato un intreccio di fiore d'argento pare che salga molti anni fa ah la tipa gli piaceva mica il vino che era in giro a cercare il vino allora sopra c'era mica l'altra l'altra baldracca da seccare da queste parti poi introdotto di qua non ci avevamo neanche andati wine room ok abbiamo il vino video chimico occhi d'occhi allora tecnici del vino del castello di mezzo che sono a quattro secolo molto prima della viva delle attuali residenti e al cina del meteo sono aggiunto questa tecnica al suo peculare tocco che dona al vino un gusto corposo e una roba intenso il suo vino migliore sanguis virginis sangue delle vergine lo conserva in una speciale bottiglia decorata con interi motivi floriali d'argento ok noi ce l'abbiamo quindi la dobbiamo mettere da qualche parte una specie di stanza segreta questa la chiave del cortile occhi di qua non ce l'hanno ancora andate vediamo se c'è qualcosa di qua prima a parte che mi sono accorto che le posso rompere anche senza cambiare il coltello è chiuso dall'altro lato adesso volevo vedere se la tipa qua c'erano delle finestre si poteva ammazzare da qua ma non credo di aver visto finestre io o se c'è tutte le finestre sbarrate questa credo che dobbiamo solo uscire basta perché qua finestre sono tutte sbarrate non si può fare un cazzo di niente un cazzo di niente questa si chiusa però con cosa l'apro non penso di poter fare le foto di famiglia non mi serva a nulla quindi ci scende io io spacco tutto raga spacco anche questo vaffanculo va mi hanno trattato malissimo ste due stronze poi mi vogliono mangiare e io non mi voglio far mangiare no volevo uscire dove cazzo sono entrati io prima vuoi vedere il castello? togli dal cazzo e vieni fuori vieni vieni a far la spavala dal sole vieni a far la spavala dal sole la cagnetta qua capito? vieni Witch vieni a far la spavala dal sole telofa andiamo via mi servono le chiavi credo mi servono le chiavi credo mezzo al cortile non c'è niente non ho già guardato è tipo se vado su si apre una porta segreta no niente so buono so buono come arpane cazzo vado al cortile ah di qua un'altra porta una spilungona vediamo se riesco a farmi qualcosa andiamo un po' in giro con la pistola che c'è solo tre colpi del cucire che cosa hai fatto a mia figlia eh qua ci vuole la ok quindi abbiamo la mappa mi sa che siamo un po' in combat fra un po' figate però le location sono bellissime veramente fatte bene mi piace poi si c'ha qualcosa che a livello tecnico c'ha gne gne però è figo dai guarda che bello vabbè ma devo entrare nella qua ma no mi sento la luce what the fuck what the fuck e qualche cazzo di indizio per casa secondo me è così è l'ale tra poca se cazzo c'è in mano questo le donne conversano deliziate dal signore del cavallo sono corteggiate da lui no? devono farsi notare ah allora queste due conversano a cazzi suoi e questo qua in teoria allora dovrebbe girarsi verso di loro allora No, no, no. Eh, guarda che c'è il caprone. Ma che cazzo? Eh, ma che cazzo? Lo direi anch'io, ma che cazzo? Vero, maledetto. Intanto esce, lo so che esce da qua, dai. Sì, poi io non è che l'abbia pagato poi così tanto, eh. Non so quelli da console, mi pare che erano 60 euro, 70 euro. Io 30 è qualcosa. Senti, va, ma avete già rotto i coglioni. Così, eh. Ho finito le munizioni del... Bene, va il capino a ammazzare questo stronzo per la testa cristallizzata. No, 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 no. Vediamo se serve la mina. Oh, non venite a prendermi! Oh, non venite a prendermi! Oh, non venite a prendermi! Ancora viva! Bello, questo me l'ha fatto ripuppare, hai visto? Buongiorno, mi piace? No. Ho o l'hai! Hmm? Oh... queste sono le vittime sono le vittime di quelle due stronz le munizioni posso fare ora almeno su 50 non bella le grazie del pollo e benvenuto madre miranda sono forse chiudo mi lo sai quel mentecatto di heisenberg si è fatto sfuggire itan winters perché adesso nel castello e sta dando del filo da torcere alle mie figlie quando l'avrà trovato le sto ammazzando le tue figlie sì certo che comprendo l'importanza della cerimonia non vi deluderò al diavolo la cerimonia quell'uomo la pagherà davvero molto molto cara piacerebbe a te brutta stronzetta e dipende alessi potrebbe valere la pena una cena ma se non fai lo strema se vuoi lo strema devi giocarli a madre miranda ci ha convocati per decidere il seno del padre la bambina pensare che questa famiglia mi farà prevedire mi disgusta il pensiero di essere considerata come una storia di questi miscredenti soprattutto heisenberg quello zottico non ha un briccio di buone maniera ne andrebbe preso a schiaffi se madre miranda non me lo impedisce non impedissi lo avrei già ridotto a brandelli rosa dove sei chiusa dall'altro lato questo non si ha riuscirà dal balcone non si No, non posso tornare indietro? No, eh? Per forza qua dentro è la soluzione Perché? Perché mi hai detto Non sono speciale, ho bisogno di bere Ma guarda qua, mica l'avevo vista Chiavi di Alcina Quindi adesso apro tutte le porte di Alcina Oh, merda Eccoti qui Tutto questo a causa di una mocciosa che non è neanche qui Che cazzo ne fai? Tu, miserabile egoista ingrato Ti introduci nella mia casa Con quelle luride mori ti permetti di toccare le mie figlie E adesso cerchi persino di rubare le mie proprietà Come osi Chia, a parte che se ti schiaccia sul pavimento così Cerca di goderti questa tregua Perché presto ti stanerò E ti farò a pezzi Fa pure quello che ti pare Nervosa la tipa, eh? E comincia a prendere un po' il ritmo del set, no? Fai quello che ti pare, brutto stronzo Non c'è un cazzo? Andiamo Possibile che non ci sia niente qua da prendere Ma niente, niente, niente Mille lei Cazzo Non ti lascerò scattare Ti stai facendo a pezzi Presto ti pentirai di aver profanato il sacato di Mille Allora, fammi capire che cazzo fai La mano mozzata La vita è bella La vita è bella Maschera della Mestitia Ciao, io mi chiamo Jack, Jack pensamano Ma come? Ma come fai a ganciare? Cazzo sei un burattino Ma dai, va vero Ma vero Eh sì, te la sei agganciata, supereroe di sta micchia Allora la fatti tagliare a pezzi Cazzo te ne frega Ma va, oh, ma vuoi Oh, beh Devi darmi soldi, devi darmi E' altro che sei qua a fare Dove sei? Vengo a ammazzare anche a te, sai Dove è l'altro indegno? Ce n'era un altro in giro Sono un magnanimo Devo fare una pausa Pausa pipì È un piacere vederti sano e salvo Come procede, eh? Non ho trovato rose Ecco Mi dispiace immensamente Dicono Mi leggo Eh, una volta fuori dal castello Allora capirai come trovarla Hai bisogno di qualcosa prima di proseguire? Benvenuto Benvenuto Sono sicuro che trovi Vabbè, la chiamo ci serve Io voglio vedere un attimino qua Aprire il negozio Perché devo andare a farla pipì Però prima vendiamo Allora, vendiamo Cazzo fatto 3 Munizione medica Aceno 2 Munizione pistola Munizione fucile Ne ho due di munizione fucile What? Intanto vendiamo questo Ah 11.000 Ok Per favore Dai un'occhiata al mio inventario Dopo ce lo do Un'occhiata a inventare Stati calmo Stati calmo Munizione fucile Prima provo di vedere Se riesco a farmelo io qualcosa Fammi sapere se trovi altre cose di valore Questo che i munizioni sono a pistola Ok Ah ma c'è Ma dove cazzo ho preso le munizioni io? Quindi non c'ho munizioni di fucile Non c'ho munizioni di niente C'ho solo quelli della pistola Ah Bene Sì Potenza Comunque come facciamo a farci scappare la potenza Ragazzi La potenza cosa? Ah va bene Io ho finito Io ho finito Io ho finito Quante mele d'acqua Munizione fucile Cartucce Vedi da 5 Mele da 2 Sto bastardo per 1000 Ah 1000 a colpo Sei scemo Minchia 105 Ma vai Ma vai a cagarmi Ma sei un cazzo di lato Vamo ragazzi Un minuto di pausa Che vado a cambiare l'acqua E pipistrello E ci vediamo Arrivo subito Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Back 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 Allora? Vi piace almeno il gioco? Brutti indegni? Almeno faccio un gioco nuovo Ragazzi Se no Qua Non facciamo più niente Non facciamo Dai Un attimo di pausa Mi faccio una sigaretta Intanto faccio una maratona Stasera Ve lo finisco per domani Beh sì Sono cambiati Effettivamente Sono cambiati parecchio Resident Non lo so Penso che sia anche una buona Una buona cosa Che siano cambiate Almeno c'è un'evoluzione Nei videogame Beh meno male Perché non scrive un cazzo di nessuno Raga Che sa da fare Che sa da di niente Una buona giornata A te Devo salvare Allora In teoria Prima di andare via dal castello Se si va via dal castello Volevo vedere una cosa Prima di una parte Che ci saranno Le tipe da Ok Questa è a due Che cazzo è quella a due Ok Non mi è dato niente Che baldracca laterale Proprio Ma veramente Mi ha dato un cazzo Vabbè Ti ha deluso il gioco Ma ti piace Come lo porto io Dai Dimmi di sis No Io sto male Non resisterò Fino a cena Ma vai affanculo Brutta Basta Che eccitazione Eh eccitati Eccitati Ma qua non c'era nulla Ad aprire Devo trovare le finestre Devo trovare Redi Che la mamma Ha fatto i gnocchi Non mi ricordo più Dove cazzo Erano queste porte Sopra ce n'era una Di porta Credo Vieni 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 Come sei severa Come sei severa Sorella Sei severissima Munizioni Da pompa Non si apre un cazzo qua Ok Ok Allora Energia ce l'ho Maschera del piacere Foto famiglia Chiave del beduino Ok Ah non si sposta God Allora Si sposta E ci passiamo Demevo che le altre Ti avessero già trovato Com'è che si usa Sta cazzo di bomba Che male Fa male Hai mandato all'aria La caccia Sei un bastardo Il mio corpo Il tuo corpo Che cambia Nella forma E nel colore Mastarda Mastarda Sei finito Ma dai Corri Coglionito Ma che cazzo ti dice Spalla sta stronza Ma perché Non farmi arrabbiare Dai Dai che c'è C'è la luce Basta La mia La mia La mia La mia La mia La mia Vaffanculo Cadi a pezzi Strega di merda Busso cristallizzato Ho preso un sacco di botte Ho preso Questo sia chiaro Ragazzi Un sacco di botte E nient'altro Da prendere Vabbè Due figlie Le abbiamo scannate Però erano belle le figlie Guarda che tanta roba Se devo andare Dove va Ah Guarda qua Reschio di animale Su base Le figlie Erano tanta 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 roba Peccato che erano Vampirle No Non posso usare L'oggetto Che cazzo è Quella roba Pagord Tempo No Non non Mai Che 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 le vampirle non c'era nulla da fare non mi ricordo più se c'era di qua siamo scesi prima non c'è niente c'era l'altra l'altra strada se non ero dall'altra parte io andrei a salvare però adesso perché l'ultima l'ultima non oh ma vero ci incontriamo sto cazzo ci incontriamo a lurida questa dall'altro lato io volevo andare a salvare non ti puoi buttare giù vero frizzati la brutta stronza maledetta dove cazzo si salva qua giù a destra dal vecchio dal vecchio pirla qua dovrebbe essere safe room no? premila ottimo cercavo giusto qualcosa per passare il tempo eh sì sì vado di eseguire qualsiasi modifica in cambio di un modesto importo velocità di ricarica capacità per sorse non c'è un cazzo questa parte minchia mille a colpo ma non sei un po' esagerato no non ne faccio mai comorarsi di articoli giusti è importante amico mio più di ogni altra cosa su lascia fare a me ti auguro una splendida avventura io ho avuto per tutto il cucino a pompa il cucino a pompa aspetti da molto? no aia 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 ma che cazzo è che fa? anch'essisce vabbè non lo voglio neanche sapere questa mi insegue per il castello ma di dracul non c'è niente da prendere in queste zone niente ma va te ne vai fuori dai te sei come quell'altro bastardo lì lurido sentiti non farmi arrabbiare ma vaffanculo dall'altra parte dov'è che dovevo andare questa figa c'è un vuoto proprio della mappa dritti sarà da pranzo e il cortile il cortile c'è ancora da far qualcosa ah si si ce la chiamo nel cortile oh e meno male che l'ho potenziata la stronza non viene fuori vero what the fuck what the fuck è chiusa è chiusa è chiusa ok mappa è solo della dependanza attenzione il rossetto della signora è sparito chiunque lo trovasse è pregato di portarlo nel suo bagno sta fabbricato uscente per lei ed è molto costoso la governante oh maria micchio ma che cazzo di casa cosa ha questa questa roba un giorno attentamente le tre ragazze sembrano più sembrano quasi morti da bocca più grande frugito l'insetto sembrano normale mosca due giorni attentamente mentre le copie sono coperte da mosche ma questi stanno consumando la loro carne quando ha aperto la finestra la terra morte pare che freddo le pietrifichi ho chiuso immediatamente le finestre per evitare di voler altrimenti gli insetti ok quindi quindi col freddo tutti i tre i corpi sono stati in insetti completamente è appena passato il giugno tutti gli insetti hanno iniziato a combattere a cambiare colore quelli sul viso sono in palliditi quell'interno dei labbra sono in tanti sullo stesso cremisi la massa in insetti è svolta nuovamente in corpi umani tre ragazzi sono svegliati guardando questi avversi avvenenati sento un legame tra di noi come se fossimo madre e figlio scelto il nome Ibella Daniela e Cassandra ah prendete interagisci lì ci basta ok quindi non c'è nient'altro da fare allora voi dovete imparare a non rompermi il cazzo così ma giusto per punizione cucina di precisione ok facciamoci un fluido perché il fluido serve dai f***a guarda quattro spicci due pompe duemila duemila mi sei costato sfera con fiori di spade allora la la sfera con fiori di spade potrebbe andare dentro dove c'è il duca così a span come si scende da sto cazzo di posto c'erano le scale ma non si scendeva di qua credo ancora non si apriva ok perfetto torno su ah di qua cazzo mica mi ricordavo già più sì sì ah mi chiedo a fare così bella Gianluca benvenuto minchia che chiavona questa chiave della stemma di ferro quindi quella che c'è dall'altra parte questo che cazzo è non mi scientifico nessuno misura 5-6 struttura del corpo sembra quella del moscone con delle differenze dalla testa sono carnivore che consumano carne voracemente per condurre la preda raccogono usando i feromoni per replicare la figura di un essere umano nate le nuove dei posti da Kodou nell'organismo che lo aspira le mosche non sono in grado di riprodursi sono sensibili che hanno in previso di temperatura se devono uscire sotto i 10 gradi il loro metabolismo rientra fino ad arrivare a uno stadio dormiente ok dove cazzo era la chiave sopra? aspetti da molto? niente pitta da malta niente pittura? No, no, no. Finalmente sei venuto a trovarmi. Tutti si innamorano di me. Divertiamoci un po' assieme. Che vuoi, scopa? Come cazzo si aprono steppinesse della minchia. Devo buttare giù qualcosa. Ragazzata! Non so! Dai! Che cazzo verga! Non ce la faccio fare. Perché mi fai questo? Dove cazzo sei? Perché? Perché mi tratti così? Perché io volevo avere un rapporto sessuale con te, ma sei una stronza. Dove cazzo sei andato? Puoi davvero uccidermi? Fa freddissimo! Dov'è? eh? Ah! Oh! 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 In teoria, sì. Un sogno! È solo un sogno! Tutti gli altri erano così felici! Non voglio morire! Non basta, insetti! Basta! Dei notti coglioni questi insetti! Stop! E finiamo di spaccare tutto quanto. E almeno qualche munizione, qualcosa, me la so fatta. Nient'altro. Ok, di qua si esce di là. Ma io da dove cazzo sono entrato, a proposito? Io sono entrato di qua. Sì, qua l'avevo già cosato. Sì, sono entrato di qua, perfetto. Che cazzo è sta roba qua? Uh, c'è la porta lì, della verginella. Come ho letto, maschera, mai una gioia. Vabbè. Ok, qua torniamo di là, perfetto. Ah, c'è che ci vuoi campani suoni, no? Ah, c'è che ci vuoi campani suoni, no? Niente, mai una gioia. Fammi vedere cinque campane che suonano. Ti spiego le cose su chi ha? Chi io? Te lo devo spiegare. No, io sono l'ultimo che ti può spiegare queste cose. No, no, lì c'è una campana. Ma li devo sparare? Ah, devo trovarle io le campane, eh? Non vedo le campane, dove cazzo stanno le campane? Sempre queste cose che devi centrare, la campana, perché è il Cristo. Cazzo... Cazzo, sono le campane. Cioè, non è che io sono famoso per il mio occhio, eh? Cazzo sono le campane di Stazzozza. Saranno imboscate, figurati. Allora, proviamo a andare su, magari li vedo. 3 Ma poi viverei così, cercando le campane? 3 5, ha detto, no? 3, 3 ne ho prese, 3. Là non mi sembra che ci sia una campana. Ah! Allora, comincio a guardare da sotto, vediamo. Ma comunque staranno là dentro, eh? Cioè, ah, eccola lì dov'è Quattro Dove è figa essere la quinta Una, due, tre Quattro Cazzo sta la quinta campanella Quattro, quattro, quattro Quattro, quattro, quattro Campanin Guarda la bastarda Vaffanculo, lurido Quattro Ah, 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 ah Giovane, ci sei? E' un certo pugnale dei fiori della morte, si tratta di un cimeno residente al medioeuro, un vestito di una mistura di veleni probabilmente da tutto il continente, pubblicato per uccidere demoni e mostre, sembra un oggetto affascinante ma nessuno sa dove si trovi. Troviamo noi ragazzi, troviamo noi, l'ammazzademone. Va a vedere come spara sto fucile del cazzo, guardate che vita di merda. Sento qualcuno che digrigna i denti, ma non ho capito bene bene, secondo me sta sopra, adesso vedi che esco e mi fa, eh? Oh, ma che cazzo? Ma non mi attaccano se non gli sparo, vero? Oh, ma che cazzo? Sì, mi ha fatto schiantare, mi ha fatto un blinde. Fa male, eh? Eh, sì, immagino di sì. Quanto sei scriptato! C'è chi? Oh, signore, mi hanno visto, adesso come facciamo? Mi mangeranno! Eh, ti ho preso, pezzo di madonna, ma che cazzo era? Beh, e vabbè, 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 vabbè... Io mi medesimo! Ragazzi, io mi medesimo! Dovreste anche sapere che mi medesimo nei videogiochi. bella cristina benvenuta cazzo che cazzo perché sono tornato qua ma serie allora maschera della gioia sfera con i fiori foto di famiglia anche mo ci dovrebbe essere lei che rompe i coglioni ma in teoria dovrebbero esserci di tanti problemi cassandra è morta ho ampliato i miei servizi vieni si aspetta aspetta giovannino aspetta un attimino gli uccelli no amiche dove cazzo no mi alvin cos'è succede dove cazzo è dove è mica l'ho persa ma che cazzo sarà indaffarato e non si incontro a marzo indaffarato no che cazzo c'è qua non l'avevo cazzo non avevo visto che c'era il buco di merda là e da dove lo faccio passare scusate ah forse di lato io sti giochini qua le buttavo via in spiaggia impazzivo ma che cazzo significa incliniamo perché a ruota inclina oh non so se riuscirò a farlo ragazzi sono un animale a fare sta roba qua eh ma qua è inclinato come cazzo come faccio io che non lo vedo ah cos'è eh mica si vede esse vaffanculo cioè dietro non lo posso vedere la puttana della tua e pazza ruteare che passione bello però dai vabbè il morale della favola cosa mi è dato eschio cremisi oh sì oh sì per favore dai un'occhiata al mio inventario primo altello munizioni pistone leme fucile bomba artigianale mica è solo il c'è tutto questo casino per prendermi 13.000 vorresti separartene no no sarei più che lieto di comprarlo allora cos'è che c'è lui qua esaurito coltello l'ho già preso mi ha detto ah c'è una roba nuova vini qua bro che ci penso io a te su lascia fare a me cosa ah va bene io ho finito beh sono bravo o no ragazzi 6.000 me le tengo ragazzi mi sa mai grazie per il tuo sì sì grazie a te grazie a te questa che la smetti di dire cazzate ci siamo ora devo andare devo andare qua mai una gioia ma no è a tre cazzo a uno devo mettere posso andare via da sto cazzo di posto me ne manca ancora una ok abbiamo lo stemma di ferro che noia questa qua sempre appresso qua c'ero venuto prima e continua a venire qua senza senza un perché reale è proprio questo che noia amica sorella sta lurida sta lurida e vedi allora che c'era il grimaldello e dove cazzo stava nella camera di piano la camera da letto vabbè andiamo andiamo nella sala da pranzo sala ingresso qua c'è un'altra cosa c'è sala da pranzo cortile e poi c'è la scaletta di qua e poi c'è la scaletta di qua milpona la milpona la milpona nazionale non l'ha salvato raga vero? mi sa che non l'ho salvato ora vado a salvare perché se non vorrei morire dovrei fare tutto il pezzo no preferivo le figlie a dire la verità erano molto più carine molto più sai sai com'è lei è troppo alta per i miei gusti cioè prima ora che poi che cazzo il mano c'è l'intera stirpe del casato dimitresco è stata completamente spazzata via da uno come te hai visto un figlio della merda che mi ha spazzato via vieni è finalmente giunta la tua uova sbagliato sala da pranzo che cazzo c'è qua da fare in sala da pranzo vabbè sì ma senere ma mi stai seguendo fuori allora ma c'è ciao allora c'è da fare qualcosa nella terrazza ancora trova le maschere 3d4 sicuramente nelle stanze dell'opera e che cazzo dell'armeria sala del piacere vabbè oh ragazzi c'ho questa qua dietro al culo che sinceramente non è che mi faccia piacere fega vuole il bue il bue l'asinello la pecora e l'agnello la vacca e i contadini la gatta e i suoi gattini ma che cazzo di vita di merda aspetta mi tocca di fuori a pezzo perché ce l'ho dietro la vacca e i suoi gattini ok nella distilleria c'è qualcosa basta che non ripoppano questi che mi viene l'ansia che cazzo allora c'è qualcosa qua credo perché ho fatto sta roba spregiudicato di cazzo no no io non sono non sono così non sono così sono un bravo ragazzo non si passava di qua che cazzo devo andare non mi ricordo più fritti si saliva no bene le robe delle torture allora qua siamo sopra giusto ok siamo sopra il terrazzo siamo sopra il terrazzo c'è qualcosa da fare qua vedi che avevo ragione io che salvataggio c'è abbiamo fatto qua però c'è proprio il pezzo del terrazzo quindi questo è safe zone zone safe vabbè io manco l'avevo vista manco l'avevo vista prima raga ma veramente c'è da fare qualcosa la pianta verde ecco cosa c'era da prendere beh non mi fa salire di là no seri e come cazzo faccio a tornare indietro ok devo tornare da sta parte sono un bravo ragazzo un po' fuori di testa ma tutti dovremmo avere un po' di un po' di pazzia nella nostra vita quotidiana raga mi chiamano che coglioni me tutti seri tutti tutti compiti c'era un film dove ti toglievano le le sensazioni che palle non esisterebbero videogiochi non l'amore non c'è l'amore l'amore non c'è più nulla no raga ci vogliono ci vogliono ci vogliono ci vogliono un po' di pazzia adesso questa me la trovo davanti mica che palla io devo andare dall'altra parte non c'è e poi le stanze così personalmente mi mandano un po' a male l'intera stirpe del casato dimitresco è stata completamente spazzata via da un sala da pranzo allora io dovrei andare al piano superiore il tetto cazzo il tetto come cazzo ci arrivo sul tetto uno come te ah c'era la cazzo c'era c'era mica l'ascensore non farmi perdere non farmi perdere tempo come palla trovare l'ascensore cazzo 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 caz Dove era l'ascensore? Sì, guarda il Jampri Com'è profondo, no? Il venerdì sera Apparazzato sul divano Dove cazzo vado? Non mi ricordo più dove era No, qua c'era Altra roba Qua si va in alto L'atelier si andava in alto dall'atelier No, io non mi chiedo Ragazzi, io devo sparare Io devo sparargli in faccia Cioè, dammi un pompa in mano E ti reggerò il mondo Eh, era qua, era qua C'eravamo mica al tetto Che c'erano gli uccellacci di malagone, raga Eh, sì, sì, siamo qua Chi siamo, amici? Chi siamo? Eh, sì, ma Mi hanno anche scassato la guala Questi uccellacci qua La guala, raga Ah, mi hai fatto venire qua per della merda ruggineta Però non mi vogliono proprio bene i videogiochi Ciao va, creiamoci Cazzo, cazzo 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 sta roba qua Uno, due, due, uno Queste mi chiedo Perché sono comunque di più Se accontentano di poco Vava, aspetto che venite voi da me, va E guardo il mondo Da uno blam Bello Ah, la cristallizzata Ah, questo è quello che ho ammazzato col cecchino Oh, oh, pezzo di merda Mi hai fatto alzarti Bagato Perché ero mancato E guarda E guarda L'ho preso prima, carissima, grazie. Adesso se intravedo mia moglie, gliene chiedo un altro. Però grazie al pensiero. Volevo ammazzare l'ultimo figlio della merda che era sopra qua. No, mi sa che non lo trovo. Mi spedio di panna, ora che mi passa davanti. Che cazzo è un pollo, vi? Ciao Giuliano! Maschera della furia. Adesso posso uscire da qui. Eh, meno male, sarei anche ora. Era anche ora, Osti. Dimmi com'è. Arriba l'ascensore, sì. Ah, io. Raga, io sto fino a dieci ore, nonostante l'età. Prego. Comincio a dare un po' di segni di separazione intorno alle dodici. Credo. Però, potete sempre... E io rimanco. Dodici, ventiquattro, trentasei. Mi vendo per poco. No, vabbè. Non voglio star male, quindi ho comunque un limite. Stupido muncolo. Oh, madre, è stupido. Se quanto vuoi, molto presto morirai. Benvenuto, benvenuto. Sono sicuro che troverai qualcosa di nuovo. Ah, sì, sì. C'è un po' delle ali di pipistrello da vendere, credo, no? Miche, guarda quanto costa. Tempi duri, Ethan. Per favore, dai un'occhiata al mio inventario. Eh, ma a me è caro il tuo inventario. Cioè, io c'ho 15k, ma sei caro, fratello. Vedenza di dire velocità del ricarico. Su, lascia fare a me. Eh, sì. Ma se mi trovo in mutande. Alla prossima volta. Un muncolo. E' un sarà della minchia. Intanto mi devi prendere, brutta stronza. Poi, parli. Adesso mi piglia e mi taglia a pezze. Guarda, guarda, guarda. Guarda che pirla, guarda che pirla. E lì, è meglio... È meglio per fare così o fare cosà? Vado anche a raccogliere le cazzate che ho lasciato indietro. A voi ce le creiamo. È un po' che sono senza munizione del pompa. C'è niente di bello. Puoi sapere che sono entrato in chiesa e non c'è una fava? E vabbè, ci sta da... da scannare qualcuno qua dentro. Mica, il pugnale ammazza demoni, ragazzi. Tu hai rovinato tutto! Mica, ma l'ina coltellata. Guarda che bella che è. Mica, ma l'ina coltellata. Mica, ma l'ina coltellata. Ti sbranerò in mezzo perfesso! Ora il tuo aspetto mostra quello che sei realmente, strega di inverno! Dove cazzo devo andare? Avrai una morte dolorosa! Dove sei cagna? Cazzo è andata? Dov'è? Ti sbruggerò! Perfortuna! Vita! Oltre Miranda! Tu sei l'unico che ha fortuna di vederti così! C'è un caro prezzo da pagare! Taffa vita! E poi avrai e poi mai! Vai! Qua prendo la bastarda! Perfetto! 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 Oh cazzo Ma la devo scannare a coltellate questa Oh cazzo Rozza la nostra ultima speranza! Non la daremo più! Voglio più sangue! Ancora! Ancora più sangue! Ancora più sangue! Ancora più sangue! Ancora più sangue! Non puoi andare da nessuna parte, Ethan! Cupi, non essere timido! Mostrami la tua paura! Ah! Ahahahahah! La cara più grande è! Che ci sono? No, non sono! Di ma l'ultimo bombone! Oh! Oh! oh ma che cazzo o Ancora viva DGM è Un blind Vabbè non era difficile Si sapeva che bisogna pigliare lei Ethan l'ammazza vampiri Maledetta sarai tu Zocco l'aggiungo io Ma che merda Ma che merda lasciato in giro Sta zozzona sta lurida Io ti succhio Io le mie figlie ti facciamo così Ma vai a cagare Peracottala della minchia Cos'è sta roba qua Finalmente posso andarmene Placone sporco Allora fammi vedere Devo cominciamo a raccapezzarci One moment please Allora io show uno di quelle Trenta colpi e risorse Chiaramente ho fatto fuori tutte le risorse Per ammazzare lei Vabbè No minchia è difficile Alvin Minchia è difficilissimo Questo è un Dark Souls Dei giorni nostri E poi faceva troppa paura Se no la gente Aiuto Aiuto Non riesco a sparare Allora l'hanno fatta ferma Che andava su in giù Bastava stare fermi Capito Andava su sparavi Notte notte Gianfrey Notte notte Allora ho finito l'oggetto Che mi era stato richiesto Consegno la casa Con migliorosso Lo troverai dopo aver attraversato Le caverne E attraversato le rovine Okidoki L'abbiamo salvato Sì Figa Allora io arrivo da là Giusto? Sì Arrivo da là Là c'è Nel cazzo di rognatura Non c'è niente Qua c'è un cesso Lì c'è il punto elevatoio Ma credo che ora sia Sia off limits Quindi direi anche volentieri Beh? Devo attraversare Le caverne Prima Fai il ponte elevatoio La minchiazza Che vado Esco dalla finestra Allora Posso usare la chiave Zacche 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 Niente Niente Ma è una gioia Dove che si va? Qua c'è il cesso Qua c'è il ponte Posso usare nulla? No Flacone sporco Aspetta cos'è c'era Flacone sporco? Mica ho visto Il fiore di spade sarà Cazzo ne so Devo mettere in qualche Porta della minchia Vabbè Non lo so Devo vedere dove cazzo Devo andare Adesso Adesso ci penso E poi decido Cioè fammi capire Mi hai fatto venire a sta parte Per vedere un cesso Volevo vedere il cesso Eh sì Ma devo sparargli A ste cazzo di cose Mi sembra un po' troppo Figura Come si tira giù sta merda? E se passo nell'acqua No eh Ricapitolando Lì c'era scritto Se passi da qua Fai di là Adesso andiamo a rileggere Perché Non ci ho capito più di tanto Però scusa Questa roba qua Non posso È una specie di cuore Qualche cazzo è Questa roba qua Vabbè Fammi andare a vedere Perché non ho Non ho capito bene Dove devo passare Ho finito il ricetto Che mi era stato richiesto Consiglio la casa Col comignolo rosso Lo troverai Dopo aver attraversato Le caverne E oltrepassato Le rovine Notte No No Non c'è un passaggio Qua Non credo Ma però Io guardo Solo sta merda Morte E basta Vabbè Cerco Ma di qua Non si passa Proprio Questa Non si può Ma qua ci vuole Però l'avevo L'ho già provato Prima a sparare E strava Per farle scendere Ma mi sa Che ci vuole Mentre Regisci un cazzo Vedi qua ci vuole Per forza La manovella Vabbè Senti Vediamo un attimino Che cazzo c'è da fare Alla porta Che è l'unico passaggio Che mi è rimasto Se la taglio Se la taglio Ma Senti Vabbè Passato Guarda il lucchetto La pistola Vedi Ho risparmiato un colpo Simone Non lo posso prendere Oh Pezzo di merda Che cazzo ne so Fanno sempre Ste robe La cazzo di cane Fighi Arrivi lì E devi Sbagliare il lucchetto Ma perché Scusa Fammi trovare una chiave Noi vi invochiamo Persi in tenebre eterne Perché ci affidiate Alle mani del fate Mentre la luna di mezzanotte Mentre la luna di mezzanotte Si innalza su ali nere Noi attendiamo l'estrema luce Bella vita e nella morte Gloria madre Miranda Ok Allora Giuliano Mi è venuto pure a te Pure a te Spiegami cosa sta succedendo qui Come può un uomo essere quasi morto Solo un saggio può rispondere Sai cosa intendo E non ho ancora trovato Rose Dove l'ha portata madre Miranda È troppo tardi O magari quasi troppo tardi Verrò offerta in sacrificio Una vita per una vita Ma che razza di stronzate medievali È solo una bambina Gli emblemi dei quattro casati Apriranno il sentiero che cerchi La pianti di parlare per enigmi Voglio solo trovare mia figlia È un enigma solo se non conosce la risposta Un momento Mi ricorda qualcosa Ehi Ehi ferma Un attimo raga che mi si è impabucchiata Impabucchiata la chat Scusate Eccoci qua Scusate Ok ferma La vecchia paralitica se n'è andata Qua ha lasciato qualcosa da arrumbarci Chiave alata Qua c'è la santa muerte Cazzo c'è Di là Andiamo dopo Di qua si può andare Qua sono entrato io Qua le quattro casate Vabbò Damose Che cosa Luogo della cerimonia Ci facciamo un giretto Intorno Un cazzo Figa Quella dell'ombrella Mi ricorda Niente Comunque Cazzi Proprio Non credo che Guardi se funzionava Oh Questa è la baguette Questa è la baguette che si alzino Oh mi arrivano delle Oh guarda quel Tanto vabbè io faccio tutto lo stealth Ma tanto vado lì e mi sparo Grazie Raffanculo da un'altra parte Chiamare i tuoi amici Chiamare i tuoi amici Chiamare i tuoi amici Chiamare i tuoi amici Coglione maledetta Io non prendo la capretta Ah cazzo mi serve qua Mi sa che la trovo in questo Eh minchia mi sta crashando raga Mi sta crashando Porco il clero Sono ancora live raga Vero di no eh Sono live a posto Perché mi ha dato Mi ha dato un paio di problemi Stasera c'ha avuto dei problemi Già la mia linea Però mi ha dato un paio di problemi UBS adesso Ho visto che è andato giù Ditemi se sta Cazzeggiando ancora Sì sì OBS OBS Alvin OBS Che se ne sta andando A fanculo Se lo rifai un altro paio di volte Riavvio la live Vabbè che cazzo c'è Ravremo Williams Provare Potevo anche non farla Però vabbè OBS 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 non entra in questa serratura che cazzo serratura ci vuole c'è un'altra cazzo bisogna trovare la chiave Altar Ah beh brulatto di bimba Sì infatti lui fa quel cazzo che vuole avanti e indietro Noi abbiamo potuto ammazzare i boss Dentro quel flacone è contenuta la sua testa No Rose Non azzardarti a dirlo What the fuck Ciao Marco benvenuto Non è possibile Non può essere vero Lo spirito di tua figlia è del tutto intatto Possiede dei poteri straordinari Chi potrebbe mai farlo Puoi ancora salvarla Salvarla Da questo Sei fuori di testa A ovest del villaggio c'è un'abitazione dal comignolo rosso Vai a trovare l'uomo che vive lì Poi potremo proseguire questa conversazione Basta perdere altro tempo e dimmi subito tutto Non c'è nulla che ti obblighi a fidarti di me Ma hai delle alternative migliori Minchia sorterrarti in cantina Bastardo La scelta è tua Ma puoi non dire Cioè Il cliente ha sempre ragione Dopotutto Così ti rubo anche tutto Se stai mentendo la pagherai molto cara Che pagliaccio Certamente Allora Vediamo il borsello del duca Che cosa contiene di bello Ho delle novità in vendita 25k Non ci faccio nulla Vero Il rischio di teo di lacina Elegante e terrificante Di gran valore Il pesce 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 Ma pesce Aspetta Il pesce voglio vedere Che cazzo mi fa Non ci faccio nulla Vero raga Di armi particolari No così non la vendo Col borsello del c'è Con La dimitrescu Cristallinizzata Credo di no Alvin Che tu sappia Non ti fai armi speciali O Cazzo Roba Roba strano Apri delle porte Vero Che non vorrei vendere Per 25.000 Poi trovarmi A non poter vedere Delle cose belle del gioco Vendo Vendo E vendiamo Oh Lady dimitrescu Splendida anche da morta Con quelle curve Sì La sapevo Che figlio della merda Ah Posso potenziare Il mio bel Fucilazza pompa Però fammi dare le risorse Cosa c'è qua di bello Bagaglio extra Quanto costa 30.000 Allora facciamo così Io mi posso comprare questo E Ma si compriamoci Ah Per gli affari Questo me lo porto Ecco cosa stavi puntando Cazzo Non mi stupisce Che ti interessi Questo articolo Tutto ciò che è di valore Da vendere Ok La fame È segno di vita Torna il più presto Allora Io da dove cazzo sono arrivato Da qua sono arrivato Vero ragazzi Non mi ricordo più Allora fammi vedere la mappa Da là devo andare Ma che diavolo Quindi lì salvo Lì c'è il coso Ma se vado su di qua O meglio Se vado qua Ponte elevatoio Ok Qua mi serve La chiave Cioè quella La manovella E qua potrei tornare Nel villaggio di prima Giusto Qua si tornano Nel villaggio di prima Cioè fammi vedere Se riesco a entrarci Ma non va bene qui Che cazzo di chiave Ha bisogno qua Chiave al cino Cazzo Ma buona Andiamo da un'altra parte Tutte chiave uguali sono Non c'erano le chiave Di sti cose No Eh mi fa Mi fa piacere Dove cazzo devo andare allora C'era lui la chiave Gli devo sparare No Ma fammi capire Che di qua ci posso andare Qua mi manca la chiave L'avevo già vista prima L'uomo della cerimonia Piattaforma di pietra Trova la casa Col comignolo rosso Eh ho capito Ma come cazzo faccio a passare Di là Con la Con la chiave Chiave col ferro A quattro ale Il salvataggio Non è sicuro che ho visto Tutto qua no Magari non ho dimenticato Qualche peones in giro Ma sicuramente no Perché qua devo tirarlo giù Il ponte Non c'è niente Lì ce l'avevo già andato C'era la capretta Qui muoio Muoio no E guardo la mappa Qua c'ho La piattaforma Qua c'ho il ponte elevatoio Qua c'ho il coso Qua ci sono La chiave con le quattro ali Che io non ho Chiave Col feto a quattro ale Punto di salvataggio Questo che c'è Chiave alata Chiave a quattro ali Io c'ho la chiave alata Sì c'ho la chiave alata C'ho la chiave alata Ciao Lorenzo Buonanotte Tanto trovate tutto nel log Domani A belli Dove cazzo la chiave alata Dove cazzo era Questa qua Chiave alata La prima l'avevo usata Vabbè questi cazzo La uso adesso Ah Priti sesamo Ok abbiamo Il grimaldello Ma andiamo a fare subito Ma il grimaldello Dovrei averlo Da qualche parte Sì l'avevo preso Il grimaldello Cazzo Cazzo Nel primo livello Trovi le munizioni del fucile Micchia Che porcata Viva la Ma non ho ancora finito qua Di guardare tutto Questo l'avevo già letto Il grimaldello Il primaldello Ok I piatti Ne facciamo un cazzo Il grimaldello Non si apre Ci starà qualcosa Ah forse sopra dovevo andare C'era qualcosa da verso Però mi sa che adesso Non ci sali Vabbè sti cazzi E al limite Ci passo dopo Poi 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 Ci abbiamo la casetta La 390 Ma non so Non so se si apre Ma non so se si apre questa porta Figurati Mai una gioia Abbiamo la chiesa Ah micchia Guardate Tutte si aprono così E' vero che Resident Evil Mi faceva andare a male Per ste cose Apre di qua Vai di là Torna su Torna giù Animale di legno Corpo Ah micchia Devo proprio Controllarla Sta casa Ah non c'ho gli attrezz Scusa Non c'ho il grimaldello Ah l'ho finito il grimaldello Così tu non lo prendete dalla casa Col comignolo rosso Stavo per andare a controllare Ma i detriti mi hanno bloccato il passaggio Devo fare il giro più lungo Per arrivarci Chi ha proprio mai pensato Che alla fine il buco della parete Della stalla Sarebbe stato Sarebbe arrivato davvero utile Non sono intenzionato la mattina Vai a casa di Luzza Papà Comunque non è facile giocare con il joypad È per un cazzo facile Oh figlio della merda Cabro Ma dove mica mi avevano assalito in 2000 Questa l'avevo già fatta tutta Manca il grimaldello E' un cazzo facile E' un cazzo facile Ecco il clero Guarda 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 che roba Perché poi Effettivamente hai ragione Alvin Gli esterni non sono Non sono fatti così Così bene Da gridare al miracolo Gli interni si Molto dettagliati Che porco Ma gli esterni no Gli esterni no Vabbè Poi manca il grimaldello Però questa forse la possiamo fare Che dite Poi c'è da fare A casa con il cammino Gli esterni no Questo prima era chiuso Vedi alcune cose Sono strane Sono strane Perché ti apre le porte Così Qua era la porta Qua era la C'era mica la La segheria Portezza Segheria Cimitero Qua però L'ha chiuso Qua è la cosa Con le quattro ali Che mi manca Giusto Stemma di ferro Chiave alata Niente Ciao bello Di qua si va su Dalla casa Quindi Dove è che era L'altra chiave L'altro pezzo E c'era l'altra chiave Qua Qua c'è un altro Lucchetto Qua si entra Come cazzo Ci arrivo da qua Scendo Dove c'è la Vergine guerriera Ok Qui c'è Una porta chiusa Di giù Di qua Mecchia Chiusa Dall'altro Minchia Di lato Vabbò Eh ma di qua Non ci passo È già passato prima È inutile che Continuo Guarda Io C'è i labirinti Io i labirinti Siamo Io lo so Figa Che dovrò Impazzire Sto cazzo Di gioco Perché impazzisco Con i labirinti E qua c'è La chiave con le quattro aree Giusto Quale che mi manca Chiave col freddo Chiave con le Però c'è Dove cazzo è la chiave di ferro Ragazzi Che me la sono persa Eccola qua Questa Chiave con lo stemma di ferro E questa È la chiave col freddo A sei ali Ok Io di qua ci posso passare Voglio tornare indietro E passare di qua Alla chiesa Ok Eh sì sì Ma non Sai Alvin Che non mi raccapezza Il vento pazzo Quando ci sono i labirinti Cioè Che cazzo Dai Vai bravo Vedi Cioè io Sono abitato a vedere la mappa là Cioè Non mi avrei vedere la mappa là Mi piacerebbe vedere là sulla destra Almeno non devo aprire E chiudere cento volte Sta roba Che mi fa male al cuore E ho capito Questo come cazzo Si sposta sta roba Devo fare il giro più lungo Ok Ok Però qua c'è la chiave col freddo assiali Non ci passo Qua sto cazzo Ma non c'è un buco qua da passare Dove cazzo è il cancello Dove è il cancello Si c'è il cancello Perché c'è ragione Che babbeo che sono Vabbè Cancellate sto pezzo Ragazzi Cancellate sto pezzo Io non l'avete visto Non l'avete visto Fate pinta di niente Eh domani Dove è? Dove è? Buono Buono Minchia Ingredienti consegnali al duca Ma che ma va chiesto gli ingredienti il duca? Ma va chiesto gli ingredienti il duca? Vabbè quando ci torniamo Gliele chiedo Dai Che cazzo c'è da fare? Ah io manco ci ho fatto caso Che il duca mi ha chiesto gli ingredienti Veramente D'accordo Forse stavate parlando Mi stavate dando fastidio Niente abbiamo fatto tutto Credo da qua dai polli No guarda che c'è la chiave qua Hai chiuso dall'altro lato Bella Julian C'era un personaggio col tuo nome Amico mio Amiche tu arrivi sempre a notte fonda Sei troppo Troppo nottambulo Ti ho detto C'è Julian Ciao Bello Tutto a posto Come va? Come va? Prego allora Dai pure un'occhiata in giro Scusa ma sta roba qua Questa qua gliela devo dare al duca E la devo dare al duca Non c'è Ma si da gliela Come sempre Un affare davvero ragionevole Ed è Non vedo l'ora di scoprire i frutti Delle tue scorribande Oh si E quindi? Questa che cazzo è? Finalmente weekend relax Si 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 ma io te l'ho detto Abbi cura di te E ho capito Ma non gli dovevamo dare sta roba al coso Cioè io non c'ho una Che cazzo Che cazzo Ma Vero Amiche c'era il porco C'ha le tette più grosse No ma scusa Cioè gli ingredienti Albi gli ingredienti E che cazzo le do? Cioè a lui gliele devo dare Gli ingredienti Ma le scambio per che cosa? La fame È segno di vita Cioè le scambio per che cosa? La roba Ah mi sblocca la roba nei negozi Ah ok No pensavo che di dover dargli qualche cosa Magari non l'ho seguito Magari non l'ho seguito E questo ciarpame 15.000 15.000 Un cazzo Seleziona questo Ripetiamo questo Possiamo prendere questo Oh non mi stupisce che ti Interessi questo articolo Grazie per il tuo supporto Ma vaffanculo Mica me lo dicono al lavoro Grazie per il tuo supporto Ma poi C'era anche il porco Da qualche parte Però che cazzo l'ho visto Il porco era morto però Ok abbiamo detto Ma questo l'abbiamo fatta Il pollo Qua c'è un'altra Un'altra zona Vento a sei ali Manco per il cazzo Questo cos'è? Il punto di salvataggio Con La casa di Lucia Ma è andata a fuoco Qua c'è un lucchetto Quindi se io vado dritto di qua In teoria Questo dovrei poterlo scassare Questo lucchetto Veramente La cazzo è il lucchetto Scusa Ma porca Ma perché mi perdo così? Cioè no Veramente raga Sto cominciando a dare i numeri Sto cominciando a dare i numeri Raga Sto cominciando a uscire di testa Come cazzo ci arrivo qua Il lucchetto Sei a Romania Fratello Come ci arrivo qua Passo di qua Qua ci sono i polli Guarda che io ci sto perdendo la testa adesso Io ci sto veramente perdendo Perdendo la capoccia Da sta parte qua Poi raga lo sapete Che io i labirinti Vabbè GG Game over Bella Allora qua c'era detto Mica c'era un cazzo di buco Da qualche parte Mica la munnezza Ma ne hai una gioia Che fatica Figa che cazzo è il tuo paese questo Figa l'hanno fatto il tuo paese Cos'è sta roba qua Guarda fuori dalla finestra Posso evitare? 07 04 AFFANCULO PEZZO DI MERDA Guarda fuori dalla finestra Hai capito? Ah aspetta 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 Allora aspetta 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 Allora 04 07 08 04 No eh No aspetta 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 as rottami cazzate 0807 e 04 07 dovrebbe essere quello il centro comunque è rimane al centro per incontrare partito sentito click prima su ma vaffanculo ma vero vogliato qualcosa non è che ottan poi guarda fuori che lui mi dice guarda fuori guarda fuori dalla finestra stai impazzendo stai impazzendo 070408 porco il clero smettila di fare il fenomeno piega che ti do un colpo di cric in testa mettila quindi di trattare bene il tuo streamer ok abbiamo le abbiamo le manovelle abbiamo le manovelle siamo contenti possiamo toglierci dal cazzo non Sì! Ho bisogno di questa manovella del cazzo, eh ce l'ho, non c'è la manovella, non c'è la manovella, ah cazzo mica sul trattore la devo usare questa cazzo di roba. Dai, poi in serio? Ma dai, ma serio? Ma dove c... pezzo di merda, maiale del cazzo, guardate che mi deve, mi deve caricare sto... Ah, capito, sto... abbatto ancora, non c'è tutta la testa aperta ma puoi eh mica non c'ho non c'ho la roba da scassinare questo è proprio l'inizio 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 ma non c'è chi c'è ma abbappan Sì pure anche a te, va. Reputenti. Bomba artigianale. Purti da l'altro lato. Sì, ma sta pistolina non fa un cazzo, la scacciacani della minchia. Quanti ne ho. Prudochimico ne ho. Vabbè, facciamoci un altro perché questi qua sono un po' rognosi. O meglio, con me sono rognosi. Vabbè. Vabbè c'è la maschera? Vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. Cazzo già vedi nel sangue la roba pesa. Oh, qua c'erano i polli, vero? C'ho la chiave di ferro. Figa, con le granate li ammazzo. Ruota del polso. Ok, perfetto. Dai, sto andando abbastanza bene per non averlo mai visto esfolerato. Figa, ma è un gg, cazzo. Ma perché non mi fate mai gg? Che cosa vi ho fatto di male? Ciao, mica, guarda che siete cattivi di brutto, eh. Mica, mai un... Dice, mica, cromo. Lo sai che cazzo giochi veramente bene. Vieni. Che va il pollo? Ah, tutto sto casino per un cazzo. Oh no, vedi. Guarda se non devo prendere quella cagna qua, oh. Quest'anno grande. Ma io ho preso una pistola prima. Posso... Vedere quale fa più danno. C'è un modo per vedere... Esamina. Che dire, è un livello 2 questa? Io perché cazzo sto usando questa? Perché cazzo sto usando questa? GG per il pollo, pezzi di mer... Figa, siete proprio cattivi, cazzo. Sono proprio... Dei cattivoni. Mi fatti sentire triste. Guarda come mi rattristisco. Ehm... Ampliamo questo. Che magari dobbiamo scappare. Ehm... Ampliamo questo. Ehm... Ampliamo questo. Ah sì, sì, eri? Cioè io sono entrato da là per fare questa roba qua. E qua... E qua non riesco ad entrare. Ah... 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 Pesce! 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 Sè! Duemila colpi e non sei morto. Vai in culo, vai. La chiave erata è solo un pezzo Ci sono altre parti Che parti? Una Ok Merda, meglio tornare dal duca Tornò dal duca Ducca Tortuca C'è un po' Deveviare due capre a madre Miranda Mi hanno tornato neanche di farmi assolutamente in credito Ok Nessun messaggio da madre Miranda Il bestiale è sempre più agitato Vorrei cederlo di consegnare tutta la chiesa e la carne dell'alma Questa è stata spaventosa Qualcosa mi è toccata Qualcosa me l'ha toccata Non so spiegarmelo Vabbè Questa è morta Così Va bene Torniamo dalla duchessa Ma cazzo non la posso più Ah la posso togliere Ah ok Così ora se trovo i pozzi Eh ragazzi Tiro sulla roba dei pozzi Qua non c'era un pozzo Vabbè Se cazzo non ci voglio cercare i pozzi Come è andata? Hai scoperto qualcosa? Ho trovato questa Qua cazzo due pazze Ora mantieni la parola e dimmi che devo fare Non ti agitare Prima usa quella chiave e trova tutti i flaconi che contengono le parti di Rose E dove sono gli altri? In totale sono quattro Uno è già tuo Il resto è nelle mani degli altri signori Signori Se questo non si ricorda Madre Miranda è la fredda e spietata sovrana del villaggio Al suo servizio ci sono i quattro signori Hai già incontrato la prima Lady Dimitrescu La seconda vive in una valle nebbiosa La creatrice di bambole Donna Beneviento Nessuno è mai riuscito a fare ritorno dalla sua oscura e antica dimora Il terzo è Moro Un'abominevola essere deforme che vive nel bacino idrico oltre i mulini Gira la voce che non sia lui l'unico mostro ad abitare quelle acque Sei che tu abitare là Guarda che faccia L'ultimo nonché il più pericoloso è Heisenberg Lavora in una fabbrica ai confini del villaggio Lavora in una fabbrica di metanfetamina Io li chiamerei abomini che vanno oltre l'umana immaginazione Che cazzo è sta roba? Ah ci sono i tesori fottuti nascosti Quindi se io vado giù di qua per esempio Dove ritornare qua Arma del mulino d'acqua Se hai veramente intenzione di salvare tua figlia Devi recuperare i quattro flaconi Voglio farti un grande favore Ho segnato sulla mappa le posizioni dei signori Nel villaggio si nascondono molti tesori Sono certo che ti sarebbero estremamente utili Perché fai questo? Beh fa parte del nostro esclusivo servizio di assistenza clienti Ti prego di tornare qui al più presto Allora tieni i flaconi in un d4 Ma certo ci sei tu Trova degli ingredienti di alta qualità e portameli Pesce e pollo Vabbè Niente devo ammazzare Devo ammazzare le bestie Vabbè mica ma io non ho gioia Cristallo grande Ok Cristallo raffinato Collocando America Se è amareggiato Io lo considero un prezzo onesto 10k Lo potenziamo Non va a dare a me Allora qua che cazzo ci compriamo 4 del pompa credo Perché quei proiettili ce li abbiamo Una buona giornata Prima gli hai venduto il corpo della capra di legno Eh ma non le posso ricomprare Vabbè le ricompro dopo dai Va bra La barba guy Capisci il momento Ma la capra poi non è Non ti dà Non so solo achievement O ti devono dare O ti dà qualcosa O ti dà qualcosa Adesso vado giù vedrai Eton Cosa? Ethan Vieni con me Ho qualcosa da dirti Mia? Che cosa succede? Guarda Senza testa Ethan Devi salvarla Che sta succedendo? Mi abbandonano tutti Anche Rose Non voglio restare sola No Non è vero Ma lo sai che io non ci faccio molto caso a quelle cose bro Amico mio Benvenuto Benvenuto Cosa cazzo è scritto? Sto impazzendo Rinuncia ai tuoi ricordi Che sta succedendo? Che era scritto sulla porta Rinuncia ai tuoi ricordi Cosa cazzo è scritto sui ricordi Cosa cazzo è scritto sui ricordi Cosa cazzo è scritto sui ricordi Come on with me Ethan Ancora mi sei inculata sta chat dalla minchia Ma puoi? Ma puoi? Ogni volta Farsi nel live Farsi sto casino Un attimino Raga arrivo Gesù Sì comunque avevi perfettamente ragione Quando dicevi che gli esterni non erano curati molto Cosa cazzo è scritto? La pretta indegna Strano che non ci sia niente Vabbè No Cominciamo da qua? Questa mi sa molto di casa enorme E' incasinata Ma c'ha lì E visto che c'ha E gli sparerei Però paura Vabbè un colpo lo posso sprecare Niente Ma è una cazzo di gioia Mi sembra che c'era una cosa di mezzo al petto Minchia va giù Facciamoci prima Ok di qua è tutto chiuso A fare un giro dall'altra parte Ok chiuso anche qua Quindi c'è rimasta Da andare giù Con l'ascensore O andare su Poi dai l'impressione che ci siano le bambole assassine qua Così su I gacciacchi Chi è la sposa di ciacchi Alla prossima troppo silenzio un cazzo scendiamolo non credo che ci sia altro da fare scasso qua l'orologio non è come nella casa delle tip i vasi bianchi eh cominciano a farci più caso vado a vedere se si possono rompere vediamo un po' erano su? credo di sì questi dici? no non le spacchi non si possono rompere no no non si possono rompere gli altri si romperanno ma nella casa in questa casa qua magari per adesso non si può rompere nulla ah c'è un occhio in testa no ma adesso credo che comincerà qualcosa sotto grazie a tutti Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sì, sì, gli interni sì, nulla da dire sui interni. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dov'è la mia arma? Come dov'è la mia arma? Ma mi ha rubato tutto quanto. Che vita di merda. Fammi salvare che vedo quel salvataggio brutto brutto. Questa è mia. Questa bambola è mia. No, Jet. Ok, ok. Ok, ok. Questo è macrabro. Macrabro. RS guarda questo qua e muovi occhio. Vedi che si è aperto qualcosa? Cazzo si è aperto. Consiglio che si è aperto qualcosa, ma non ho capito che cosa. Ah, mica si è aperto un cazzo. Vabbè, intanto perquisiamo un po' la nostra bella, ma... Nello coperto di sangue. Cazzo si è aperto un po' la nostra bella, ma non ho capito un po' la nostra bella. Quindi c'è qualche bambola della minchia in giro. Ok, mi devo trovare qualcosa per tagliarle. Ok. Ora c'è una bambola. Ok, mi devo trovare qualcosa per riguardo. Ok. 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 Gli altri oggetti non c'erano, quindi io la uso con lei. Non posso usare niente. Non è che devo andare in giro per casa, amiche. A quest'ora farsi sti robbi qua. Ah, questo è quello che aveva nell'occhio lei? Io devo trovare anche questo. Ok. Di qua non si esce. Quindi per forza qualcosa qua nella stanza da fare. Smonta l'altro arto. Non so se si può smontare. Ah, il braccio sì, ma la graffia non lo so. Fa un po' effetto quando dici... Ah, vedi, gli occhi, i tre occhi chiusi. E allora in teoria è anche l'altro arto qua. Non si può smontare. Esamina bocca. Infilagli la chiave d'avancarica in bocca. Dove è uno strumento? Non c'è un cazzo a tirargli fuori, sono lì. Allora, questo qua era... L'uccello che guarda a destra e i tre occhi chiusi. Ok. Eh, ma qua non ho oggetti per tagliargli. Le chiave d'avancarica. Ok. Anello coperto di sangue. Un anello che sta suddito da una bambina. Un sforco di sangue. Ok. Ok. No, l'altro arto non mi fa fare nulla. L'altro arto... Ah, l'art... Magari c'è qualcosa in giro da utilizzare. Il ferro qua? Cazzo. Ok. Ma qua c'erano i numeri. Mi sembra che ci sono messe la parete. L'ha fatto di mio, invece... Non la posso più vedere. Ok. Allora, sotto c'è un disegno. C'è, vediamo un attimino. C'è la gamba. C'è qua, cos'altro da fare qua? Ah, non puoi fare nient'altro. Ah, vedi che c'è un altro pezzo. Cabe d'argento. Che si usa qua. Oh, che calcio! Che... Ti conto? È così pieno di energia. Assurdo. Ah. 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 è chiuso semmo si apre non gliela posso neanche mettere al dito vabbè mica neanche con la chiave riesci a prendermi allora fammi vedere invece la denunzione che abbiamo lavato magari 0 5 29 11 ok ok sì vabbè poteri magici fratello poteri magici sì ma comunque notare come non ci sia un cazzo di niente in giro questo che erano ricorda la mia vita con itana che ormai non suona più che ci fa qui è qualcosa di sbagliato ma c'è ci sarà qualcosa aspetta un attimino bloccati un secondo esci da qua da sto cazzo di roba magari c'è qualche roba in giro carion della mia minchiazza niente mi sa che c'è niente diamo nel cestino nulla sopra nulla qualcuno esperto di carion allora vediamo conoscendo quanto potre ma il problema è che non te lo fa neanche sentire ah forse è a scala fammi capire non lo so e vado così guardo bene i cilindri ah c'hanno le strisce c'hanno non è propriamente l'ora per fare ste cose però vabbè io vi voglio anche bene e ci provo e ci provo Non è questo No questo è il contrario Come cazzo è sto coso Ah che mu si rompe tutto Allora c'è la striscia e va così Ma scusa questa qua dove cazzo va Così C'è quello in mezzo che è rotto C'è quello in mezzo che è squallato Ok Venga la pinzettazza La pinzetta per togliere una cazzo di roba Dalla bocca di quella stronza In manichino Bravo Capace che ci stavano i tre quarti d'ora No tre quarti d'ora no l'avrei capito Prima o poi che non è D'aver capito che erano le strisce prima o poi Però magari mi ci volevo un attimo La pellicola La pellicola Avevo visto una cosa con la pellicola Io salvo Cazzo avevi fatto l'icona Non posso dirlo a Ethan La pellicola No No La pellicola migliore amico di rose in tutto il mondo rosa d'ora e questa favola cosa mi ha portato la nostra vita un regalo di nozze della nonna la prova dell'amore terreno di etan ok ed un cazzo la petta il migliore amico di rose in tutto il mondo quindi pupazzetto rosa adora questa favola la cosa importante la nostra vita allora il migliore amico di rose la fa una cosa importante la nostra vita devo così invertiamo pensate che io lo faccio per voi mica ecco le bambole per esempio sono inquietanti si si ho sbagliato christos dai un piccoglione devo farglielo anche sul petto della tipa no amiche alvi lo sai che io c'è ogni cosa che faccio la faccio per voi ragazze per rendervi partecipi mia di che stai parlando nel tuo e bambino mia ma che cazzo dici mia veramente usa il telefono fammi usare il telefono cosa succede beh io al set l'ho lasciata la e l'ho lasciata ah mi ci vuole la madonna cioè in teoria io non avrei neanche salvata al set cazzo è caduto un braccio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti rispettare allora aspetta tre occhi chiusi il corpo a destra ciao mauro no io non ho fatto niente se tu vedi vedi il marcio dove non c'è vedi il marcio dove vogliato porta vedi il marcio dove non c'è ma è così indietro indietro perché questo non me lo fa ah perché cazzo mi ha dato gli occhi fottuti aperti ma guarda che figlio della merda superatore di manichini no esagerati è che mi manca la mia mia con quegli occhi di di triglia notte leonora chiave del quadro elettrico e quindi basta sulla chiave un po' Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah l'etico non è una chiave eh la madonna devo fare serena mi cadere il crambamama mamma 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 No! È solo. Ora. Sì, era un ripilante la bambina, porca troia Aspetta, mio giovane padawan Ma io cazzo, adesso diventa tutto scuro vedrai Oh, yes Dove cazzo esco? Dai Oh, no Ma no Ma no, ma no Amica, mi vado a fare un caffè Ma ho mangiato da mia figlia Ma neanche nei miei incubi peggiore Porca troiazza Vabbè, raga Cos'è? È la prima morte È la prima morte in Cinque ore e mezza, eh Oh Un gg a me, ragazzi Un gg a me Ragazzi, datemi un secondo Mi faccio un caffè al volo Ma proprio al volo, al volo, al volo E arrivo E arrivo, al volo, al volo Grazie a tutti. 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 Tutti a dormire. Io gioco bene. Il game in sé fa pena. Bella lei. Grazie. Mauro invece gli da un bel dieci. Cos'è che ti piace di più Mauro? Così, faccio tempo a riprendermi un attimo dal game, intanto vi faccio le domande. Allora, Alvin dice la grafica 7, il gameplay 5 e la lore 6. Ma Alvin è bastardello, quindi io interpretando Alvin direi un 7 e mezzo, 6, 6 e mezzo gameplay, la lore, Alvin sei da hot. E' un bel benvenuto. E' un bel benvenuto. E' un bel benvenuto. E' un bel benvenuto a Joseph e Matteo, c'era Matteo. Non è arrivato anche Matteo, aspetta, c'erano due o tre che hanno messo i fuori, non glielo ho dati. Giuliano, mi pare di averglielo dati, ma era già due ore fa Giuliano. Vabbè, Cristina glielo ho dato perché me lo ricordo. Benvenuti, 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 benvenuti a tutti. Ho finito il gioco e non spoiler nulla, ma il gioco vale 10. Ho finito tutti in Resident Evil e la tua simpatia vale 100. Ti do un bacio, guarda. Grazie caro, grazie. Prova a spoilerare, eh, a spoilerare. Beh, diciamo che ci sono andati, a parte qualche scena, a parte qualche scena, mi ha fatto molta più impressione il 7. Il 7 mi ha fatto molta più impressione, quello sicuramente. Quando l'hanno appeso per le mani, quella è stata bastarda. Quella è stata bastarda, che mica che intorno la sentivo io. Come l'uomo chiamato cavallo, ragazzi. Un film che dovete, dovete vedere, tutti quanti. Minchia, Claudia. Claudia, tu, tu lo stai demolendo, tutta sera che lo stai demolendo pesante il gioco. Però i gusti sono gusti, raga, eh. Qua siamo, stiamo in una... 10, molto simpatico, grazie, Simo. Qua siamo in una democrazia totalitaria, cioè, non conta un cazzo nessuno. Tutti possono dire la propria, naturalmente nei limiti. Io accetto tutto, perché comunque a me piace il videogame a 360 gradi. Per cui... Vai cagare, mia. Che schifo di gioco di merda. Sto gioco indigno. Ma la cosa peggiore, Claudia, tu l'hai giocato su console, giusto? Sì, gli enigmi sono un po' fa... Cioè, se ci arrivo io al primo colpo, sono facilissimi gli enigmi. Cioè, io sono dalla... Prendi il pompa e spara. Non sai l'enigma? C'hai il pompa, tira giù la porta. Eh... Se tante carte... Se tante carte sono tante. Specialmente per un gioco che non ti è piaciuto. Comunque, stiamo avanti. Ricomincia. Ma come ricomincia? Non ho ricominciato da capo, vero? Ah no, ok. Ricomincia dal livello. Ma di qua si può passare? Si possono alzare sti cazzo di roba? Posso fare una qualsiasi roba qua sotto? No, eh? Posso far morire la bambina di digestione? Non so, con il latte, il veleno. Niente. Fammi capire. C'è un modo per... Tive voglia di andare alla Capcom? Eh 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 eh. Vabbè dai, se animi ti c'è... Questa cosa. Ah! Ma io come faccio a scappare da sto... Mamma, mamma. Non è che mi devo mettere sotto là? Mamma, mamma. Mamma, 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 mamma. babba arrivo babba ah devo andare dalla sala dei fusibili che cazzo era? mi sono già per mi ricordo più dov'è vabbè vabbè ora cerco no 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 madonna che cesso della micia questa cazzo la devo schiacciare apri apri ah 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 comunque comunque bella mauro comunque quanto cazzo è brutto il bambino niente non dà forza di qua non ci sono cazzo niente non posso neanche staccare la testa che bruttissimo è il bambino e la bambina non andare non te lo permetto sei ancora viva eh si possa inviarmi a trovare un problema prima che gli abitetti ti ammazzino ah ah che tocchi hai directions ormai ti gass vieni qua che ti tolgo le batterie chiali ho triste ho sì ho sconto devo trovarla Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 . Sì. 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 le nevi amiche io ho speso un milione di cappa per un cazzo e ci sono i polli perché cazzo c'è punto di salvataggio la chiesa e qua c'è il feto a safe o tutoriale e io c'ho io c'ho il pompa in mano voi dovete quando io passo vi dovete aprire cazzo acqua c'è un altro che ci facciamo anche questa già che ci siamo 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 a caccia e famo questa a dove cazzo sta ok abbiamo questa merda qua zona in esplorazione quindi esco così al minore faccio e in teoria dovrei chiuderle lì in teoria in pratica dubito però in teoria come cazzo è officina come cazzo c'entrano all'officina qua o largano facendo esplodere qualcosa ci posso entrare nell'officina raga io non lo so non ci posso entrare ma lo trovo ancora non ci sono andato la raga dai adesso adesso ci vado trovo l'uccello gli sparo e stacco dai ho capito mi dovete far staccare allora l'uccello in teoria dovrebbe essere a queste parti qua al cimitero se non vado errato e qua c'è una roba dai andiamo a vedere al cimitero dai andiamo a vedere al cimitero ah si anche la casa del maestro dobbiamo fare però non so dove si entra questa qua si entra da qua cesso il grimo al fottuto dello io ce l'ho una testa cazzo cazzo c'è pure la testa della bimba che l'ho venduta al coglione vabbè si cazzo ormai è andato oh me l'hai insegnato te a vendere sempre oh tu mi dici vendi 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 cosa te ne fai io mi dimentico cosa devo vendere oh cazzo cos'è che c'è qua happy b b day ah guarda qua c'è un altro di quel cazzo di enigmi della minchia eh ma devo capire dove cazzo ecco di qua ah non c'hanno i numeri ste cazzo di cose pensavo che avessero i numeri quindi 27 09 17 cazzo da io via 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 No che cazzo ho fatto Oh che ho sbagliato Dove cazzo è il caricatore maggiorato Monta parte Bravo Bravo Ok Ora questa parte l'abbiamo fatta Il tesoretto l'abbiamo preso Devo andare al cimitero Al cimitero devo uscire di qua Vado sempre dritto Credo Posso anche uscire di qua E poi vado dritto E arrivo dalla vergine di minchia E andiamo a prenderci l'uccello Ho già sbagliato strada Buttano la bicicletta All'incontrare devo andare Dall'altra parte Gesù Cristo Che vita di merda Scusa ma se gli sparo a ste cose Non mi da qualche acchimente Dalla micchia Albi Tu che ne sei sempre una più del diavolo Dai ma dimmi che vi devo fare tutto il giro Per arrivare da questa parte del cazzo Ma anche no eh Oh ma appare in culo Allora L'uccello Dovrebbe essere da queste parti qua Perché Morire ancora? Non so io Quante cazzo di coppia ti devo dare Allora abbiamo anche il tesoro della tomba Del coglione Ora Guarda che ti sento Pezzo di merda Dove cazzo sei? Guarda Ops È morto Hai visto? Hai visto? Hai visto che l'ho ammazzato? Ok Qua c'era mica Un'altra Un'altra boiata da fare Demi Questo prima non c'era Salviamo Figa Qua avete a che fare con Un pro player Allora Arrivo al sito Nessun segno di V o RB In questo villaggio Scontri una serie Armi biologici Trovate tracce di V Posizione sconosciuta Poi stabiliti nella chiesa Ispezione laboratorio Analisi di campioni di muffa Blah 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 E quindi? Oh guarda Ho visto ora Fatto? Sono troppo un fottuto Pro Minchia player Ok Ora ho fatto questo Possiamo anche Lasciare Ma addio Minchia devo tornare Dall'altra parte Che cazzo c'è Voglio tornare di qua Ragazzi A prendere il tesoro No no dai Andiamo Andiamo a aprire Sta cazzo di porta Che già mi sono spaccato La waller Anche perché Allora È fatta tarda È vero che ho detto Maratona Foto di uno strano uccello Vedo un 4 ale Ah questo addirittura È 6 futute ale Ah 6 ale Minchia 6 ale Che cazzo l'aveva letto 6 ale Vedi Qua c'è Una porta rossa Quindi questa non l'ho ancora fatta E manco questo Ho fatto E manco il vigneto Mercante Il vigneto Come cazzo c'entra Dal vigneto Da questa parte qua Credo Ma scusa Anche questa Me la dà ancora da finire Vedi ma Che Cristo Il Giude Scariota Me l'ha fatta diventare Ok E io riprovo Andare di qua Allora Vediamo un po' Do io Eh no Non ci faccio un cazzo qua Per questo è ponte della minchia Non riesco Non riesco a tirarlo giù Devo passare di là per fort Minchia Che rabbia Ma che cosa c'era Il ponte elevatoio Ma questo è veramente Lo riesco a tirarlo giù In qualche maniera Questo cazzo di ponte Con un lanciagranate Non so Qualsiasi roba O forse riesco a passare Dalla in fondo Troppo bello E qua dentro Che cosa c'è Entra sta roba qua Cos'era sta roba qua Facciamoci anche questa Già siamo qua Finiamo tutti questi A meno Non ci torno più Guarda Mi sta venendo l'ansia A tornare a questi posti Si è un gatto C'è da fare qua dentro Dai Ma qualcuno Pensavo con l'ultima Non la faccio a separare C'è da fare Sto posto qua C'è un joypad in mano Una madonna Sto posto qua Ma Non c'è da fare un cazzo Ma oppure Comunque non adesso È limpa No Io amo gli animali Ragazzi Ne amo veramente tanto Ma credo che non ci sia Un cazzo da fare Almeno per ora Guarda Pensa che figlio di troia Di gioco Uno è stanco Allora qua La casa di Luisa Dalla madonna Questo Qua c'è un pozzo E no Adesso in teoria Dovremmo andare a ammazzare Morò Giusto? Confermate ragazzi Dobbiamo andare a schiattare A schiattare La capa morò Quindi salgo Il problema è come cazzo Ci arrivo qua Dai Dai Figlio della merda Che cazzo c'è Che è chiuso? Chi è che va a nanna? Alvin Alvin Mi vai a nanna Alvin Ma l'Alvin Sta andando a dormire No Raga Non ci credo Che Alvin Mi va a dormire Poi c'era Una scala Nella casa Per uscire Credo Per andare dall'altra parte Della casa E allora Sorella Madonna mia Mica Mi sta invecchiando Alvin Porco il clero Io sono stanco Beh Però Si fa Così Si lasciano gli amici Da soli Nei momenti Del bisogno No Devo riuscire a capire Che Forse Ce la faccio Bene Di qua Non passo Per forza Di qua Devo passare Allora Miglione Va beh Quante ore siamo? 6 ore e mezza Beh dai Il vecchietto Il vecchietto Ragazzi C'è ancora Una buona resistenza Poi faccio passare Come faccio passare di qua Allora Se io vado dritto Minchia Devo fare tutto il giro così Per entrare di qua Allora 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 Non passo Adesso ci passa No Io ho il ban Anche io ho il ban Anche io ho il ban Non ho permesso di bannare Ai cristo Mi sto perdendo No vabbè Alvin Adesso vado anch'io Faccio Un'altra mezzoretta Un'oretta Vediamo un attimino E mi corico Anche me Anche perché Sto cominciando Sto cominciando A aprire troppo spesso La mappa Travi qua Non vado insomma Questo non si apre Né di là Né di qua Ma cazzo funziona Vabbè Sti cazzi Ok Giro giù di qua Vado di qua E in teoria Dovevi esserci No Spero Al mulino Ci siamo arrivati Vedi Che cristo è Cazzo Per forza di qua A meno che non ci sia Come cazzo faccio Salire da questa Da questa montagna Di merda Era tanto semplice Era tanto semplice Quanto difficile Per forza di qua Che maiale di merda Ma Che maiale di merda Che maiale di merda Mica, c'è salvataggio qua Figa, che vendemmia Che vendemmia Ma il salvataggio qua Dai, mica, che porcheria Oh, ma Così, mi è venuta una curiosità, eh Mi è venuta una curiosità Quanti cazzo siamo rimasti in live? Cazzo Beh, dai, ho a caldo Undici, undici persone Mica pizza e fighi, considerando che sono le quattro e mezza Dai, dai, dai Go, go, go Dai, 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 go, go Mi raccomando, raga, visto che non c'è Alvini Mica, mica, mettetemelo sto cazzo di like alla pagina Io sono contento, eh, se lo mettete Se parlate di me ai vostri amici D'accordo Ci sono solo che divendo ormai sofferente? No No, sofferente no E che sto aprire e chiudere la mappa Non mi fa rendere il gioco costante Cioè, il rendimento non è costante Lo sai quanto io odio aprire e chiudere le mappe Ma niente, è finta Uh, qua Ehi Mica, che l'ha scippata Madre Miranda Per voi farei qualunque cosa Questo qui lo prendo io Ehi, ehi, ehi La bimba speciale di Miranda Cosa vuoi fare? Non è sua figlia Oh, hai qualcosa in contrario Che significa la bimba speciale di Miranda? Madre, Miranda rifuole sua figlia Basta, stronzate Aspetta, aspetta Ti prego, ti prego Se me la rubi Gli altri rideranno Sono morti gli altri Ma se sarò più bravo di loro Che me ne frega Fermo Un attimo solo Ti, ti prego Che c'è da ridere? Sei stupido E parli troppo Ti ho fregato Ho bloccato l'uscita Cosa, cosa stai Questo è il mio territorio E io non ti farò scappare No, era troppo Era troppo facile Scusa, io se passo di qua Che cazzo succede? Vabbè, fa ancora da un'altra parte Non puoi Prenderso Nemmeno Se mi preghi Come esco da qui? Oh, mo' vediamo, sorella Vabbè Vabbè Adesso sono i bidoni così Adesso sono i bidoni così No, è mancato No, è mancato Che avete la barca Ma c'è un sacco di merda Quello Michia Sono Sono cattivo Sono forte Sono peggio della morte No, è mancato No, è un sacco di merda Ma dove cazzo è la barca? Ma dove cazzo è la barca? Allora è finita Che cazzo è la barca? Non ho più Ma ho fatto una minchiata Ho fatto una fottosa minchiata No, è un sacco di merda Ma la barca dove cazzo è? Non è questa la barca No, è le chiavi della barca Mi ha detto Immagino che di qua Non si possa andare Vedi ci sarà un'altra strada O comunque un altro Eh sì Un altro porto sicuro Vedi c'è questo Per la barca Credo Gigi Gigi è me Scusa di qua Eh no Vedi che di qua Torno Torno su Eh no Eh no Voglio vedere un attimino qua Che cazzo c'era E dove Specialmente dove è la barca Guardate che vomito Che cazzo cazzo Siamo tornati sopra dove eravamo prima E qua riesco allora Ma questi crescono in continuazione Spero di no perchè sennò ho fatto una bella minchiata Cioè vabbè in teoria dovrei Però c'ho troppe poche munizioni per fare una roba del genere Distruggere tutte le bave Mamma mia Che ne la faccio E qua dove cazzo vado allora scusa Questa roba Ma chi aveva col fetto il segale E allora andiamo accendi qua dai Dove stavamo uscendo prima Eh mi raccomando eh In macchina ragazze Giù Questa è arrivata Questa è arrivata Quando va finito lascia la chiave della barca nella campana della miniera Anzi è morto, niente più pesca per un po' La sua morte non è stata un incidente È stato divorzato un pesci gigante con tutta la barca Minchia Ma se io volessi prendere quello? Eh, metti che io volessi andare qua Prendere questo Non posso? Non mi sa di no, devo trovare una stella alternativa Per fare quel cesso di cosa Vediamo un po' Sai che mi sa che devo andare sopra? Però ho poca roba per provare qualsiasi cosa No, non ci arrivo, dai A meno che non sparare da qualche parte Vedi che lì c'è qualcosa per calarsi Vabbè, niente Lo lasciamo lì O forse si sale da su Ma vediamo Che cos'era? Ti seguo, fratello Niente, niente, niente Ma che diavolo Un laboratorio di ricerca Che cazzo succede qui? Levate di dazzo Dai giù, cazzo! Che cazzo? Ma mi sorprende che tu sia arrivato qui Ti pensierai che succedesse qualcosa proprio ora? Certo, Chris Come no? Hai ucciso Mia Ammazza anche me Finisci il lavoro Ehi, capo Rilevo dei movimenti preoccupanti qua fuori Meglio andarsene Che movimenti? Di che origine? Sconosciuto Ma siamo in questo posto da troppo tempo E Miranda lo saprà Ehi, hai detto Miranda Che c'entrate con lei? Lascia perdere Ethan È al di fuori della tua portata Entri l'analisi dei campioni? C'è sicuramente un legame con la muffa Sta fuori da questa storia, Ethan Che storia? Attenco, attento! No mi ha salvato la vita No mi ha salvato la vita No mi ha salvato la vita L'uscita è sott'acqua Sei finito Non ho tempo da perdere È troppo tardi Miranda Sta già preparando la cerimonia Miranda ha mandato te per fermarmi Sei patetico Oh, che crudeltà Oh, che crudeltà No, non è giusta Dovrei esserci io con lei Non tu Di che stai parlando? Che cazzo di problemi ha avuto la scuola? Che cazzo di problemi ha avuto la scuola? Non c'è un arpione Figa, tutto ha distrutto sto figlio di buttanazza vabbè adesso che faccio niente arrangiamo come al solito ita niente niente mi sa che devo stare sopra la montagna e basta cosa fare altro di quanto si va il camoro io se riesco a farmi qualche dai sbagliato io comincio veramente a perdere i colpi perché ha detto che l'uscita è sott'acqua la diga questo vomita merda ha capito frammento di cristallo quarzo giallo cranio cristallizzato credo perfetto ma daremo che stava già venduta questo ok pollo pesce carne e classici teniamo ben 39 capo acquista in merce per cui svenarsi allora ti posso farmi per aero cosa mi danno assolutamente un po il danno risulto in guardia viene ridotto l'assoluta aumentata permanente o è cazzo mi manca qualcosa mi manca il pesce cazzo mi manca il pollo ma il pollo me lo posso ricomprare io gliel'ho venduto al bastardo dai un'occhiata al mio inventario io al bastardo il pollo gliel'ho non gliel'ho venduto 360 un cazzo posso farmi posso farmi posso farmi posso farmi questo l'assolutamente un po di un po facciamo pesce alle erbe e conferma grazie è ora di cucinare mi sta rendendo fame scusa l'attesa ecco la tua parte e quindi ha già mangiato ha già fatto tutto lui nel caso è un po permanentemente mi piacerebbe averne un altro po buon per te non va a dare a me ok questo siamo full 7000 velocità di carica capacità mi prega un cazzo 12000 al danno questo ok ci compriamo un po' di roba perché sono proprio a secco è una scelta interessante ok scusa dove sono le munizioni del pompa cioè gli ho finito le munizioni del pompa quello di coglioni tante lotte di amide fammene pigliare uno che non ci sa mai eh ho visto ho visto cazzo questa questa non è una gran cosa questo che cazzo fa stavo qua io non c'ho le mie 19 non c'è neanche il v870 ma c'è le f2 minuto telescopito che non userò mai cos'è questo progetto mina va bene qualcos'altro ah 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 cos'è questo progetto munizioni stordenti progetto non c'è precisione sì questa è se oh non mi stupisce che ti interessi questo articolo 30 eh mica mille 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 però a me la rompe un po' il cazzo sta roba qua vabbè niente il cibo è vita alla prossima comunque non posso fare prende una ceppa di niente c'è poca roba c'è poca roba vabbè raga c'è salvataggio io direi che per il momento 7 ore di live ce ne siamo sparate spero che siate contenti di questa lunga lunga una volta a pensare che ne facevo tutti i giorni così a Coda tutti i giorni tutti i giorni tutti i giorni tutti i giorni per 8 mesi 8 ore dai le 6 le 8 ore a sera stavo morendo comunque ragazzi notte Claudia buonanotte buon viaggio mi raccomando noi ci becchiamo domani sera credo domani sera a questo punto ore 21 e 30 perché domani mi metto a cablare a fare un po' di cose poi magari se c'è tempo vi faccio un paio di foto ore 21 e 30 se no qualche cosina di pomeriggio ringrazio tutti voi per essere stati con me mi raccomando pubblicità like follower per chi non l'ha messo like sulla pagina per chi non l'ha messo e e niente ragazzi figa è stato bello ho 50 anni non reggo più degli orari così piccoli ci becchiamo ci becchiamo domani ok ragazzi spero che vi sia piaciuto un bacione a tutti quanti buonanotte ciao belli ciao 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 ciao